un audio corso gratuito in numerose lingue uno persone persone io io e te I and you noi due both of us lui lui e lei he and she loro due they both l'uomo the man the man la donna the woman il bambino the child una famiglia a family a family la mia famiglia la mia famiglia è qui è qui my family is here io sono qui i'm here i'm here i am here tu sei qui you are here you are here you are here you are here tutti loro sono qui they are all here they are all here 50 languages 50 languages due two two la famiglia family family members family members il nonno the grandfather the grandfather the grandfather la nonna the grandmother the grandmother lui e lei lui e lei lui e lei il fratello 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 La sorella Lui e lei Lo zio La zia Lui e lei Noi siamo una famiglia La famiglia non è piccola La famiglia è grande The family is big The family is big Fifty languages Tre Fare la conoscenza Getting to know others Ciao Hi Buongiorno Hello Come va? How are you? How are you? Viene dall'Europa? Do you come from Europe? Viene dall'America? Viene dall'Asia? Do you come from Asia? In quale hotel alloggia? In which hotel are you staying? In which hotel are you staying? Da quanto tempo è qui? How long have you been here for? How long have you been here for? Per quanto tempo rimane? How long will you be staying? How long will you be staying? Do you like it here? Do you like it here? È in vacanza? Are you here on vacation? Are you here on vacation? Mi venga a trovare Please do visit me sometime Please do visit me sometime Ecco il mio indirizzo Here is my address Here is my address Ci vediamo domani? Shall we see each other tomorrow? Shall we see each other tomorrow? Mi dispiace, ho già un impegno I'm sorry, but I already have plans I am sorry, but I already have plans Ciao Bye Bye Arrivederci Goodbye Goodbye A presto See you soon See you soon 50 languages Quattro Four Four A scuola At school At school Dove siamo? Where are we? Where are we? Siamo a scuola We are at school We are at school Abbiamo lezione We are having class We are having class Questi sono gli studenti Those are the school children Those are the school children Questa è l'insegnante That is the teacher That is the teacher Questa è la classe That is the class Che cosa facciamo? What are we doing? What are we doing? Studiamo We are learning We are learning Impariamo una lingua We are learning a language We are learning a language Io studio l'inglese I learn English I learn English Tu studi lo spagnolo You learn Spanish You learn Spanish Lui studia il tedesco He learns German He learns German Noi studiamo il francese We learn French We learn French Voi studiate l'italiano You all learn Italian You all learn Italian Loro studiano il russo They learn Russian Studiare una lingua È interessante Learning languages is interesting Learning languages is interesting Vogliamo capire la gente We want to understand people We want to understand people Vogliamo parlare con la gente We want to speak with people We want to speak with people 50 languages 5 5 5 Paesi e lingue Countries and languages Countries and languages John è di Londra John is from London John is from London Londra si trova in Inghilterra London is in Great Britain London is in Great Britain Lui parla inglese He speaks English He speaks English Maria è di Madrid Maria è di Madrid Maria is from Madrid Maria is from Madrid Madrid si trova in Spagna Madrid is in Spain Madrid is in Spain Lei parla Spagnolo She speaks Spanish She speaks Spanish Peter e Marta sono di Berlino Peter and Marta are from Berlin Peter and Martha are from Berlin Berlino si trova in Germania Berlin is in Germany Berlin is in Germany Parlate tedesco voi due? Do both of you speak German? Do both of you speak German? Londra è una capitale London is a capital city London is a capital city Anche Madrid e Berlino sono capitali Madrid and Berlin are also capital cities Madrid and Berlin are also capital cities Le capitali sono grandi e rumorose Capital cities are big and noisy Capital cities are big and noisy La Francia si trova in Europa France is in Europe France is in Europe France is in Europe L'Egitto si trova in Africa Egypt is in Africa Egypt is in Africa Egypt is in Africa Il Giappone si trova in Asia Japan is in Asia Japan is in Asia Japan is in Asia Il Canada si trova nell'America del Nord Canada is in North America Canada is in North America Il Panama si trova nell'America centrale Panama is in Central America Panama is in Central America Il Brasile si trova nell'America del Sud Brazil is in South America Brazil is in South America Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi 50 languages 6 6 6 6 Leggere e scrivere Reading and writing Reading and writing Io leggo I read I read Io leggo una lettera I read a letter Io leggo una parola I read a word Io leggo una frase I read a sentence I read a sentence Io leggo una lettera I read a letter I read a letter Io leggo un libro I read a book I read a book Io leggo I read I read Tu leggi You read You read You read Lui legge He reads He reads He reads Io scrivo I write I write I write Io scrivo una lettera I write I write I write a letter Io scrivo una parola I write a word I write a word Io scrivo una frase I write a sentence I write a sentence Io scrivo una lettera I write a letter I write a letter Io scrivo un libro I write a book I write a book Io scrivo I write I write Tu scrivi You write You write Lui scrive He writes He writes Fifty languages Sette Seven Seven Numeri Numbers Numbers Io conto I count I count Uno Due Tre One Two Three One Two Three Three Io conto Fino a tre I count to three I count to three Continuo a contare I count further I count further Quattro Cinque Sei Four Five Six Four Four Five Six Sette Otto Nove Seven Eight Nine Seven Eight Nine Io conto I count I count I count Tu conti You count You count Lui conta He counts He counts Uno Il primo One One The first One The first Due Il secondo Two The second Two The second Tre Il terzo Three The third Three The third Quattro Il quarto Four The fourth Four The fourth Cinque Il quinto Five The fifth Five The fifth Sei Il sesto Six The sixth Six The sixth Sette Il settimo Seven The seventh Seven The seventh Otto L'ottavo Eight The eighth Eight The eighth Nove Il nono Nine The ninth Nine The ninth Fifty Languages Otto Eight 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 Le ore The time The time Scusi Excuse me Excuse me Excuse me Che ora è Per favore Che ore sono Per favore What time is it please What time is it please Grazie mille Thank you Thank you very much Thank you very much Thank you very much È l'una It's one o'clock It is one o'clock Sono le due It is two o'clock It is two o'clock Sono le tre It is three o'clock It is three o'clock Sono le quattro It is four o'clock It is four o'clock Sono le cinque It is five o'clock Sono le sei It is six o'clock Sono le sette It is seven o'clock It is seven o'clock Sono le otto It is eight o'clock It is eight o'clock Sono le nove It is nine o'clock It is nine o'clock Sono le dieci It is ten o'clock It is ten o'clock Sono le undici It is eleven o'clock It is eleven o'clock Sono le dodici È mezzogiorno È mezzanotte It is twelve o'clock It is twelve o'clock Un minuto ha sessanta secondi A minute has sixty seconds A minute has sixty seconds Un'ora ha sessanta minuti An hour has sixty minutes An hour has sixty minutes Un giorno ha ventiquattro ore A day has twenty-four hours A day has twenty-four hours Fifty languages nove Nine 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 I giorni della settimana Days of the week Days of the week Il lunedì Monday Monday Il martedì Tuesday 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 Il mercoledì Wednesday 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 Il giovedì Thursday Thursday Il venerdì Friday 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 Il sabato Saturday 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 La domenica Sunday Sunday La settimana La settimana The week The week Da lunedì a domenica From Monday to Sunday Il primo giorno è il lunedì Il primo giorno The first day is Monday Il secondo giorno è il martedì The second day is Tuesday Il terzo giorno è il mercoledì The third day is Wednesday Il quarto giorno è il giovedì The fourth day is Thursday The fourth day is Thursday Il quinto giorno è il venerdì The fifth day is Friday The fifth day is Friday Il sesto giorno è il sabato The sixth day is Saturday The sixth day is Saturday Il settimo giorno è la domenica The seventh day is Sunday The seventh day is Sunday La settimana ha sette giorni The week has seven days The week has seven days Noi lavoriamo solo cinque giorni We only work for five days We only work for five days Fifty languages Dieci Ten Ieri Oggi Domani Yesterday Today Tomorrow Yesterday Today Tomorrow Ieri era sabato Yesterday was Saturday Yesterday was Saturday Ieri sono stato al cinema I was at the cinema yesterday I was at the cinema yesterday Il film era interessante The film was interesting The film was interesting Oggi è domenica Today is Sunday Today is Sunday Oggi non lavoro I'm not working today I'm not working today Resto a casa I'm staying at home I'm staying at home Domani è lunedì Tomorrow is Monday Tomorrow is Monday Domani lavoro di nuovo Tomorrow I will work again Tomorrow I will work again Lavoro in ufficio I work at an office Chi è? Who is that? È Peter That is Peter Peter è uno studente Peter is a student Peter is a student Questa chi è? Who is that? Who is that? Questa è Marta That is Martha That is Martha Marta è una segretaria Martha is a secretary Martha is a secretary Peter e Marta sono amici Peter and Martha are friends Peter and Martha are friends Peter è l'amico di Marta Peter is Martha's friend Peter is Martha's friend Martha è l'amica di Peter Martha is Peter's friend Martha is Peter's friend visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi 50 languages 11 11 mesi months gennaio january febbraio february february marzo march march aprile april maggio may giugno june 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 questi sono sei mesi these are six months these are six months gennaio febbraio marzo january february march january february march aprile maggio e giugno april may and june april may and june luglio july july agosto august settembre 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 ottobre october 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 novembre november 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 dicembre december december anche 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 sono sei mesi these are also six months le c e c e l c c c e e c c october november and december october november and december 50 languages 12 12 bevande beverages beverages io bevo te i drink tea i drink tea io bevo caffè i drink coffee i drink coffee io bevo acqua minerale i drink mineral water i drink mineral water bevi il te con il limone do you drink tea with lemon do you drink tea with lemon bevi il caffè con lo zucchero do you drink coffee with sugar do you drink coffee with sugar bevi acqua con ghiaccio do you drink water with ice do you drink water with ice qui c'è una festa there is a party here there is a party here la gente beve la gente beve prosecco people are drinking champagne people are drinking champagne la gente beve vino e birra people are drinking wine and beer people are drinking wine and beer bevi alcoholici do you drink alcohol do you drink alcohol bevi whisky do you drink whisky do you drink whisky bevi coca cola con il rum do you drink coke with rum do you drink coke with rum non mi piace il prosecco i do not like champagne i do not like champagne non mi piace il vino i do not like wine i do not like wine non mi piace la birra i do not like beer i do not like beer al bambino piace il latte the baby likes milk the baby likes milk al bambino piacciono la cioccolata e il succo di mela the child likes cocoa and apple juice the child likes cocoa and apple juice alla donna piacciono la spremuta d'arancia e il succo al pompelmo the woman likes orange and grapefruit juice the woman likes orange and grapefruit juice fifty languages tredici thirteen thirteen attività activities 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 che cosa fa Marta what does Martha do what does Martha do lavora in ufficio she works at an office she works at an office lavora al computer she works on the computer she works on the computer dov'è Marta? where is Martha where is Martha al cinema at the cinema at the cinema guarda un film she is watching a film she is watching a film che cosa fa Peter? what does Peter do? what does Peter do? studia all'università he studies at the university he studies at the university studia lingue he studies languages he studies languages dov'è Peter? where is Peter? where is Peter? al bar at the cafe at the cafe beve un caffè he is drinking coffee he is drinking coffee dove gli piace andare? where do they like to go? where do they like to go? ai concerti to a concert to a concert gli piace ascoltare la musica they like to listen to music they like to listen to music dove non vanno volentieri? where do they not like to go? where do they not like to go? in discoteca to the disco non gli piace ballare they do not like to dance they do not like to dance 50 languages quattordici 14 14 14 14 colori colors 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 la neve è bianca snow is white snow is white il sole è giallo the sun is yellow the sun is yellow l'arancia è arancione the orange is orange la ciliegia è rossa the cherry is red il cielo è azzurro the sky is blue the sky is blue l'erba è verde the grass is green the grass is green la terra è marrone the earth is brown the earth is brown la nuvola è grigia the cloud is gray the cloud is gray le ruote sono nere the tires are black the tires are black di che colore è la neve? bianca what color is the snow? white what color is the snow? white di che colore è il sole? giallo what color is the sun? yellow what color is the sun? yellow di che colore è l'arancia? arancione what color is the orange? orange orange what color is the orange? orange di che colore è la ciliegia? rossa what color is the cherry? red red what color is the cherry? red di che colore è il cielo? azzurro what color is the sky? blue blue what color is the sky? blue di che colore è l'erba? verde what color is the grass? green green what color is the grass? green di che colore è la terra? marrone di che colore è la nuvola? grigia what color is the cloud? gray di che colore sono le ruote? nere what color are the tires? black what color are the tires? black 50 languages quindici 15 15 frutti e generi alimentari fruits and food fruits and food io ho una fragola I have a strawberry I have a strawberry io ho un kiwi e un melone I have a kiwi and a melon I have a kiwi and a melon io ho un'arancia e un pompelmo I have an orange and a grapefruit I have an orange and a grapefruit io ho una mela e un mango I have an apple and a mango I have an apple and a mango io ho una banana e un ananas I have a banana and a pineapple I have a banana and a pineapple io preparo una macedonia I am making a fruit salad I am making a fruit salad io mangio un toast I am eating toast I am eating toast and jam I am eating toast with butter and jam I am eating toast 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 io mangio un tramezzino con la margarina e pomodoro. Abbiamo bisogno di pane e riso. Abbiamo bisogno di pesce e bistecche. Abbiamo bisogno di pizza e spaghetti. Di che cosa abbiamo ancora bisogno? Abbiamo bisogno di carote e pomodori per la minestra. Dove troviamo un supermercato? Dove è il supermercato? Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi. 50 languages 16 Stagioni e tempo Seasons and weather Seasons and weather Queste sono le stagioni These are the seasons These are the seasons La primavera L'estate Spring Summer Spring Summer L'autunno e l'inverno Autumn and winter Autumn and winter D'estate D'estate Fa caldo The summer is warm The summer is warm D'estate C'è il sole The sun shines in summer The sun shines in summer D'estate Ci piace Andare a passeggio We like to go for a walk in summer We like to go for a walk in summer D'inverno fa freddo The winter is cold The winter is cold D'inverno nevica o piove It snows or rains in winter It snows or rains in winter D'inverno preferiamo restare in casa We like to stay home in winter We like to stay home in winter Fa freddo It is cold It is cold Piove It is raining It is raining Tira vento It is windy It is windy Fa caldo It is warm It is warm C'è il sole It is sunny It is sunny È sereno It is pleasant It is pleasant It is pleasant Che tempo fa oggi? What is the weather like today? What is the weather like today? Oggi fa freddo It is cold today It is cold today Oggi fa caldo It is warm It is warm today It is warm today Fifty languages Diciassette Seventeen Seventeen A casa Around the house Around the house Ecco la nostra casa Our house is here Our house is here Sopra c'è il tetto The roof is on top The roof is on top Sotto c'è la cantina The basement Is below The basement Is below Dietro la casa C'è un giardino There is a garden Behind the house There is a garden Behind the house Davanti alla casa Non c'è nessuna strada There is no street In front of the house There is no street In front of the house Vicino alla casa Ci sono degli alberi There are trees Next to the house There are trees Next to the house Ecco il mio appartamento My apartment is here My apartment is here Ecco la cucina E il bagno The kitchen and bathroom Are here The kitchen and bathroom Are here Lì ci sono il salotto E la camera da letto The living room And bedroom Are there The living room And bedroom Are there La porta è chiusa The front door Is closed The front door Is closed Ma le finestre Sono aperte But the windows Are open But the windows Are open Oggi fa caldo It is hot today It is hot today Noi andiamo in salotto We are going to the living room We are going to the living room Lì ci sono un divano E una poltrona There is a sofa And an armchair there There is a sofa And an armchair there Si sieda Please sit down Please sit down Lì c'è il mio computer My computer is there My computer is there Lì c'è il mio stereo Lì c'è il mio impianto stereo My stereo is there My stereo is there Il televisore è nuovo di zecca The TV set is brand new The TV set is brand new 50 languages 18 Eighteen Eighteen Pulizie di casa House cleaning House cleaning Oggi è sabato Today is Saturday Today is Saturday Oggi abbiamo tempo We have time today We have time today Oggi puliamo L'appartamento We are cleaning The apartment today We are cleaning The apartment today Io pulisco Il bagno I'm cleaning The bathroom I am cleaning The bathroom Mio marito Pulisce La macchina My husband My husband Is washing The car My husband Is washing The car I bambini Puliscono Le biciclette The children Are cleaning The bicycles The children Are cleaning The bicycles La nonna Annaffia La sua scrivania My husband Is tidying Up his desk My husband Is tidying Up his desk Metto la biancheria Nella lavatrice I am putting the laundry In the washing machine I am putting the laundry In the washing machine Stendo il bucato I am hanging up the laundry I am hanging up the laundry Stiro la biancheria I'm ironing the clothes I am ironing the clothes Le finestre sono sporche The windows are dirty The windows are dirty Il pavimento è sporco The floor is dirty The floor is dirty Le stoviglie sono sporche The dishes are dirty The dishes are dirty Chi pulisce le finestre? Who washes the windows? Chi spolvera? Chi passa l'aspirapolvere? Who does the vacuuming? Chi lava i piatti? Who does the dishes? Who does the dishes? Diciannove In cucina Hai una nuova cucina? Do you have a new kitchen? Cosa vuoi cucinare oggi? What do you want to cook today? La cucina è elettrica o a gas? Do you cook on an electric or a gas stove? Taglio le cipolle? Shall I cut the onions? Pelo le patate? Shall I peel the potatoes? Lavo l'insalata? Dove sono i bicchieri? Dove sono le stoviglie? Dove sono le posate? Where is the cutlery? Where is the cutlery? Hai un'apri scatole? Do you have a tin opener? Do you have a can opener? Hai un'apribottiglie? Do you have a bottle opener? Do you have a bottle opener? Hai un cava tappi? Do you have a corkscrew? Fai bollire la zuppa in quella pentola? Are you cooking the soup in this pot? Cuoci il pesce in quella padella? Are you frying the fish in this pan? Are you frying the fish in this pan? Cuoci la verdura su quella griglia? Are you grilling the vegetables on this grill? Io preparo la tavola. I'm setting the table. Ecco i coltelli, le forchette e i cucchiai. Here are the knives, the forks and the spoons. Ecco i bicchieri, i piatti e i tavaglioli. Here are the glasses, the plates and the napkins. Here are the glasses, the plates and the napkins. 50 languages 20 20 20 Small talk Chiacchiere Uno Small talk one Small talk one Si accomodi Make yourself comfortable Make yourself comfortable Faccia come a casa sua Please feel right at home Please feel right at home Che cosa desidera da bere? What would you like to drink? What would you like to drink? Le piace la musica? Do you like music? Do you like music? Mi piace la musica classica. I like classical music. I like classical music. Ecco i miei CD. These are my CDs. These are my CDs. Suona uno strumento? Do you play a musical instrument? Do you play a musical instrument? Ecco la mia chitarra. This is my guitar. This is my guitar. Le piace cantare. Do you like to sing? Do you like to sing? I like to sing. Ha figli? Do you have children? Do you have children? Ha un cane? Do you have a dog? Do you have a dog? Ha un gatto? Do you have a cat? Do you have a cat? Ecco i miei libri. These are my books. These are my books. Sto leggendo questo libro. I am currently reading this book. I am currently reading this book. Che cosa le piace leggere? What do you like to read? What do you like to read? Va volentieri al concerto? Do you like to go to concerts? Do you like to go to concerts? Va volentieri a teatro? Do you like to go to the theater? Do you like to go to the theater? Va volentieri all'opera? Do you like to go to the opera? Do you like to go to the opera? Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi. 50 Languages 21 21 Small talk, chiacchiere due Small talk, two Small talk, two Da dove viene lei? Di dov'è? Where do you come from? Da Basilea, di Basilea Basilea si trova in Svizzera Basilea si trova in Svizzera Le posso presentare il signor Muller? May I introduce Mr. Miller? May I introduce Mr. Miller? Lui è straniero He is a foreigner He is a foreigner Parla diverse lingue He speaks several languages He speaks several languages Lei è qui per la prima volta? Are you here for the first time? Are you here for the first time? No, ci sono già stato l'anno scorso No, I was here once last year No, I was here once last year Ma solo per una settimana Only for a week, though Come si trova da noi? How do you like it here? How do you like it here? Molto bene La gente è gentile A lot The people are nice A lot The people are nice Ed anche il paesaggio mi piace And I like the scenery, too And I like the scenery, too Qual è la sua professione? What is your profession? What is your profession? Sono traduttore I'm a translator I am a translator Traduco libri I translate books I translate books È solo, sola, qui? Are you here alone? Are you alone here? No, c'è anche mia moglie Mio marito No, my wife, my husband Is also here No, my husband Is also here E quelli sono i miei due figli And those are my two children And those are my two children Fifty languages Ventidue Twenty-two Twenty-two Small talk Chiacchiere Tre Small talk Three Small talk Three Lei fuma? Do you smoke? Do you smoke? Una volta fumavo I used to I used to But I don't smoke But I don't smoke anymore But I don't smoke anymore La disturbo se fumo? Does it disturb you if I smoke? Does it disturb you if I smoke? No, affatto No, absolutely not No, absolutely not Non mi disturba It doesn't disturb me It doesn't disturb me Beve qualcosa? Will you drink something? Will you drink something? Un cognac? A brandy? A brandy? No, piuttosto una birra No, preferably a beer No, preferably a beer Lei viaggia molto? Do you travel a lot? Do you travel a lot? Sì, di solito sono viaggi di affari Yes, mostly on business trips Yes, mostly on business trips Ma adesso siamo in vacanza But now we're on holiday But now we're on holiday Che affa It's so hot It's so hot Sì, oggi fa veramente caldo Yes, today it's really hot Yes, today it's really hot Andiamo fuori sul balcone Let's go to the balcony Let's go to the balcony Domani c'è una festa There's a party here tomorrow There's a party here tomorrow Ci viene anche lei? Are you also coming? Are you also coming? Sì, anche noi siamo invitati Yes, we've also been invited Yes, we've also been invited Fifty languages Ventitre Studiare le lingue straniere Learning foreign languages Learning foreign languages Dove ha imparato lo spagnolo? Where did you learn Spanish? Where did you learn Spanish? Sa anche il portoghese? Can you also speak Portuguese? Can you also speak Portuguese? Sì, e so anche un po' di italiano Yes, and I also speak some Italian Trovo che lo parla molto bene I think you speak very well I think you speak very well Le lingue sono piuttosto simili The languages are quite similar The languages are quite similar Riesco a capirle bene I can understand them well I can understand them well Ma parlare e scrivere è difficile But speaking and writing is difficult But speaking and writing is difficult Faccio ancora molti errori I still make many mistakes I still make many mistakes Per favore, mi corregga sempre La sua pronuncia è molto buona Your pronunciation is very good Lei ha un leggero accent You only have a slight accent You only have a slight accent Si può capire da dove viene One can tell where you come from Qual è la sua madrelingua? What is your mother tongue? What is your native language? Frequenta un corso di lingue? Are you taking a language course? Are you taking a language course? Che libro di testo utilizza? Which textbook are you using? In questo momento non ricordo come si chiama I don't remember the name right now I don't remember the name right now Non mi viene in mente il titolo The title is not coming to me The title is not coming to me L'ho dimenticato I've forgotten it I've forgotten it I've forgotten it Fifty languages Ventiquattro Twenty-four Appuntamento Appointment Hai perso l'autobus? Did you miss the bus? Did you miss the bus? Ti ho aspettato per mezz'ora I waited for you for half an hour Non hai con te un cellulare? Do you have a mobile with you? Don't you have a mobile phone with you? La prossima volta Sii puntual Be punctual next time Be punctual next time La prossima volta Prendi un taxi Take a taxi Take a taxi next time La prossima volta Prendi un ombrello Take an umbrella with you next time Take an umbrella with you next time Domani sono libero I have the day off tomorrow I have the day off tomorrow Ci vediamo domani? Shall we meet tomorrow? Shall we meet tomorrow? Mi dispiace Domani non posso I'm sorry I can't make it tomorrow I'm sorry I can't make it tomorrow Hai già programmi per questo fine settimana? Do you already have plans for this weekend? Do you already have plans for this weekend? O hai già qualche impegno? Or do you already have an appointment? Or do you already have an appointment? Io propongo di vederci questo fine settimana I suggest that we meet on the weekend I suggest that we meet on the weekend Facciamo un picnic? Shall we have a picnic? Shall we have a picnic? Andiamo in spiaggia? Shall we go to the beach? Shall we go to the beach? Andiamo in montagna? Shall we go to the mountains? Shall we go to the mountains? Ti passo a prendere in ufficio I will pick you up at the office Ti passo a prendere a casa I will pick you up at home Ti passo a prendere alla fermata dell'autobus I will pick you up at the bus stop I will pick you up at the bus stop 50 languages 25 25 25 25 in città in the city in the city Vorrei andare alla stazione I would like to go to the station Vorrei andare all'aeroporto I would like to go to the airport Vorrei andare in centro I would like to go to the city center Qual è la strada per la stazione? How do I get to the station? Qual è la strada per l'aeroporto? How do I get to the airport? Qual è la strada per il centro? How do I get to the city center? Ho bisogno di un tassi I need a taxi Mi serve una piantina della città I need a city map Mi occorre un albergo I need a hotel Vorrei noleggiare una macchina I would like to rent a car Ecco la mia carta di credito Here is my credit card Ecco la mia patente Here is my license Cosa c'è da vedere in città? What is there to see in the city? Vada nel centro storico Go to the old city Go to the old city Faccia un giro della città Go on a city tour Go on a city tour Vada al porto Go to the harbor Go to the harbor Faccia un giro al porto Go on a harbor tour Go on a harbor tour Quali attrazioni turistiche ci sono ancora? Are there any other places of interest? Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi Do you see the tower there? Do you see the tower there? Vedi quella montagna lì? Do you see the mountain there? Do you see the mountain there? Vedi quel villaggio lì? Do you see the village there? Vedi quel fiume lì? Do you see the river there? Do you see the river there? Vedi quel ponte lì? Do you see the bridge there? Do you see the bridge there? Vedi quel lago lì? Do you see the lake there? Do you see the lake there? Questo uccello qui mi piace I like that bird I like that bird Quest'albero qui mi piace I like that tree Questa pietra qui mi piace I like this stone I like this stone Questo parco qui mi piace I like that park Questo giardino qui mi piace I like that garden Questo fiore qui mi piace Lo trovo carino Lo trovo carino Lo trovo carino I find that pretty Lo trovo interessante Lo trovo meraviglioso Lo trovo brutto 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 I find that terrible. Fifty languages. Ventisette. Twenty-seven. In hotel. Arrivo. In the hotel. Arrival. In the hotel. Arrival. Ha una camera libera. Do you have a vacant room? Ho prenotato una camera. I have booked a room. Mi chiamo Muller. My name is Miller. My name is Miller. Ho bisogno di una camera singola. I need a single room. I need a single room. Ho bisogno di una camera doppia. I need a double room. I need a double room. Quanto costa la camera a notte? What does the room cost per night? What does the room cost per night? Vorrei una camera con bagno. I would like a room with a bathroom. I would like a room with a bathroom. Vorrei una camera con doccia. I would like a room with a shower. I would like a room with a shower. Posso vedere la camera? Can I see the room? Can I see the room? C'è un garage qui? Is there a garage here? Is there a garage here? C'è una cassaforte qui? Is there a safe here? Is there a safe here? C'è un fax qui? Is there a fax machine here? Is there a fax machine here? Bene, prendo la camera. Fine, I'll take the room. Fine, I'll take the room. Ecco le chiavi. Here are the keys. Here are the keys. Ecco i miei bagagli. Here is my luggage. A che ora c'è la colazione? What time do you serve breakfast? A che ora c'è il pranzo? What time do you serve lunch? What time do you serve lunch? A che ora c'è la cena? What time do you serve dinner? What time do you serve dinner? A che ora c'è il pranzo? 50 languages. 28. 28. 28. In hotel. Lamentele. In the hotel. Complaints. In the hotel. Complaints. La doccia non funziona. The shower isn't working. The shower isn't working. Non c'è acqua calda. There is no warm water. There is no warm water. Can you get it repaired? Can you get it repaired? Nella stanza non c'è il telefono. There's no telephone in the room. There is no telephone in the room. Nella stanza non c'è il televisore. There is no TV in the room. There is no TV in the room. La stanza non ha la terrazza. The room has no balcony. The room has no balcony. Nella camera c'è troppo rumore. The room is too noisy. The room is too noisy. La camera è troppo piccola. The room is too small. The room is too small. La camera è troppo scura. The room is too dark. The room is too dark. Il riscaldamento non funziona. The heater isn't working. The heater isn't working. L'aria condizionata non funziona. The air conditioning isn't working. The air conditioning isn't working. Il televisore è guasto. The TV isn't working. The TV isn't working. Questa non mi piace. I don't like that. I don't like that. I don't like that. Questa è troppo cara. That's too expensive. That's too expensive. Avete qualcosa di più economico? Do you have anything cheaper? Do you have anything cheaper? C'è un ostello della gioventù qui vicino? Is there a youth hostel nearby? Is there a youth hostel nearby? C'è una pensione qui vicino? Is there a bed and breakfast nearby? Is there a bed and breakfast nearby? C'è un ristorante qui vicino? Is there a restaurant nearby? Is there a restaurant nearby? 50 languages. Is there a table taken? Vorrei il menù, per favore. I would like the menu, please. I would like the menu, please. Che cosa mi puoi raccomandare? What would you recommend? What would you recommend? Vorrei una birra. I'd like a beer. I'd like a beer. Vorrei una minerale. I'd like a mineral water. I'd like a mineral water. Vorrei un'aranciata. I'd like an orange juice. I'd like an orange juice. Vorrei un caffè. I'd like a coffee. I'd like a coffee. Vorrei un caffè macchiato. I'd like a coffee with milk. I'd like a coffee with milk. Con lo zucchero, per favore. With sugar, please. With sugar, please. Vorrei un tè. I'd like a tea. I'd like a tea. Vorrei un tè al limone. I'd like a tea with lemon. I'd like a tea with lemon. Vorrei un tè con latte. I'd like a tea with milk. I'd like a tea with milk. Ha delle sigarette? Do you have cigarettes? Do you have cigarettes? Ha un portacenere? Do you have an ashtray? Do you have an ashtray? Ha da accendere? Do you have a light? Do you have a light? Mi manca una forchetta. I'm missing a fork. I'm missing a fork. Mi manca un coltello. I'm missing a knife. I'm missing a knife. Mi manca un cucchiaio. I'm missing a spoon. I'm missing a spoon. Fifty languages. Trenta. Thirty. Thirty. Al ristorante. Due. At the restaurant. Two. At the restaurant. Two. Un succo di mela, per favore. An apple juice, please. An apple juice, please. Una limonata, per favore. A lemonade, please. A lemonade, please. Un succo di pomodoro, per favore. A tomato juice, please. A tomato juice, please. Vorrei un bicchiere di vino rosso. I'd like a glass of red wine. I'd like a glass of red wine. Vorrei un bicchiere di vino bianco. Vorrei una bottiglia di spumante. I'd like a bottle of champagne. I'd like a bottle of champagne. Ti piace il pesce? Do you like fish? Do you like fish? Ti piace il manzo? Do you like beef? Do you like beef? Ti piace la carne di maiale? Do you like pork? Do you like pork? Vorrei qualcosa senza carne. Vorrei un piatto di verdura. Vorrei un piatto di verdura. Vorrei un piatto veloce. I'd like something that won't take much time. Lo vuole con il riso? Would you like that with rice? Lo vuole con la pasta? Would you like that with pasta? Lo vuole con le patate? Would you like that with potatoes? Questo non mi piace. That doesn't taste good. Il cibo è freddo. The food is cold. Questo non l'ho ordinato io. I didn't order this. I didn't order this. Thirty-one. Al ristorante, tre. At the restaurant, tre. Vorrei un antipasto. I would like a starter. Vorrei un'insalata. I would like a salad. I would like a salad. Vorrei una minestra. I would like a soup. I would like a soup. I would like a soup. Vorrei un dessert. I would like a dessert. Vorrei un gelato con panna. I would like an ice cream with whipped cream. I would like an ice cream with whipped cream. Vorrei della frutta o del formaggio. I would like some fruit or cheese. I would like some fruit or cheese. Vogliamo fare colazione. We would like to have breakfast. We would like to have breakfast. Vogliamo pranzare. We would like to have lunch. We would like to have lunch. Vogliamo cenare. We would like to have dinner. We would like to have dinner. Che cosa volete a colazione? What would you like for breakfast? What would you like for breakfast? Panini con marmellata e miele. Rolls with jam and honey. Rolls with jam and honey. Toast con salumi e formaggio. Toast with sausage and cheese. Toast with sausage and cheese. Un uovo sodo. A boiled egg. A boiled egg. Un uovo all'occhio di bue. A fried egg. A fried egg. Una frittata. An omelette. An omelette. Ancora uno yogurt, per favore. Another yogurt, please. Another yogurt, please. Ancora sale e pepe, per favore. Some salt and pepper, also, please. Ancora un bicchiere d'acqua, per favore. Another glass of water, please. Another glass of water, please. 50 languages. 50 languages. 32. 32. 32. Al ristorante. 4. At the restaurant, 4. At the restaurant, 4. Una porzione di patatine con ketchup. I'd like chips with ketchup. I'd like french fries with ketchup. E due porzioni con maionese. And two with mayonnaise. And two with mayonnaise. E tre porzioni di salsiccia con senape. And three sausages with mustard. And three sausages with mustard. Che verdure avete? What vegetables do you have? What vegetables do you have? Avete fagioli? Do you have beans? Do you have beans? Avete cavolfiore? Do you have cauliflower? Do you have cauliflower? Mi piace molto il mais. I like to eat sweet corn. I like to eat corn. Mi piacciono molto i cetrioli. I like to eat cucumber. I like to eat cucumber. Mi piacciono molto i pomodori. Mi piace anche a lei il porro. Do you also like to eat leek? Do you also like to eat leeks? Do you also like to eat sauerkraut? Do you also like to eat sauerkraut? Piacciono anche a lei le lenticchie? Do you also like to eat lentils? Do you also like to eat lentils? Piacciono anche a te le carote? Do you also like to eat carrots? Do you also like to eat carrots? Piacciono anche a te i broccoli? Do you also like to eat broccoli? Do you also like to eat broccoli? Piacciono anche a te i peperoni. Do you also like to eat peppers? Non mi piacciono le cipolle. I don't like onions. Non mi piacciono le olive. Non mi piacciono i funghi. I don't like mushrooms. Fifty languages. Trentatré. In stazione. At the train station. At the train station. Quando parte il prossimo treno per Berlino? When is the next train to Berlin? Quando parte il prossimo treno per Parigi? When is the next train to Paris? When is the next train to Paris? Quando parte il prossimo treno per Londra? When is the next train to London? A che ora parte il treno per Varsavia? When does the train for Warsaw leave? When does the train for Warsaw leave? A che ora parte il treno per Stoccolma? When does the train for Budapest leave? When does the train for Budapest leave? Vorrei un biglietto per Madrid. I'd like a ticket to Madrid. I'd like a ticket to Madrid. Vorrei un biglietto per Praga. Vorrei un biglietto per Berna. I'd like a ticket to Bern. A che ora arriva il treno a Vienna? When does the train arrive in Vienna? When does the train arrive in Vienna? A che ora arriva il treno a Mosca? When does the train arrive in Moscow? A che ora arriva il treno a Amsterdam? When does the train arrive in Amsterdam? Devo cambiare? Do I have to change trains? Do I have to change trains? Da quale binario parte il treno? From which platform does the train leave? From which platform does the train leave? C'è un vagone letto nel treno? Does the train have sleepers? Does the train have sleepers? Solo andata per Bruxelles? I'd like a one-way ticket to Brussels. I'd like a one-way ticket to Brussels. Solo ritorno per Copenhagen. I'd like a return ticket to Copenhagen. I'd like a return ticket to Copenhagen. Quanto costa un posto nel vagone letto? What does a berth in the sleeper cost? What does a berth in the sleeper cost? 50 languages. 34 34 34 Sul treno È questo il treno per Berlino? Is that the train to Berlin? Quando parte il treno? When does the train leave? Quando arriva il treno a Berlino? When does the train arrive in Berlin? Scusi, mi fa passare? Excuse me, may I pass? Credo che questo sia il mio posto. I think this is my seat. Credo che lei sia seduta al mio posto. I think you're sitting in my seat. Dov'è il vagone letto? Where is the sleeper? Where is the sleeper? Il vagone letto è in coda al treno. The sleeper is at the end of the train. The sleeper is at the end of the train. E dov'è il vagone ristorante? In cima al treno. And where is the dining car? At the front. And where is the dining car? At the front. Can I sleep in the middle? Can I sleep below? Posso dormire al centro. Can I sleep in the middle? Can I sleep in the middle? Posso dormire sopra. Can I sleep at the top? Can I sleep at the top? Quando arriveremo alla frontiera? When will we get to the border? When will we get to the border? Quanto dura il viaggio fino a Berlino? How long does the journey to Berlin take? How long does the journey to Berlin take? È in ritardo il treno? Is the train delayed? Is the train delayed? Ha qualcosa da leggere? Do you have something to read? Do you have something to read? Si può avere qualcosa da mangiare e da bere? Can one get something to eat and to drink here? Can one get something to eat and to drink here? Mi potrebbe svegliare alle sette? Could you please wake me up at seven o'clock? Could you please wake me up at seven o'clock? Fifty languages Trentacinque Thirty-five All'aeroporto Vorrei prenotare un volo per Atene I'd like to book a flight to Athens È un volo diretto? Is it a direct flight? Is it a direct flight? Per favore Un posto vicino al finestrino Non fumatori A window seat Non smoking, please A window seat Non smoking, please Vorrei confermare la mia prenotazione Vorrei cambiare la mia prenotazione I would like to change my reservation I would like to change my reservation Quando parte il prossimo aereo per Roma? When is the next flight to Rome? When is the next flight to Rome? Ci sono ancora due posti liberi? Are there two seats available? Are there two seats available? No, abbiamo solo un posto libero No, we have only one seat available No, we have only one seat available Quando atterriamo? When do we land? When do we land? Quando arriviamo? When will we be there? When will we be there? Quando parte l'autobus per il centro? When does a bus go to the city center? È sua questa valigia? Is that your suitcase? È sua questa borsa? Is that your bag? Is that your bag? È suo questo bagaglio? Is that your luggage? Quanto bagaglio posso portare? How much luggage can I take? How much luggage can I take? 20 chili 20 kilos 20 kilos Come? Solo 20 chili? What? Only 20 kilos? What? Only 20 kilos? Visita il sito www.book2.de 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 per il libro e per i testi 50 languages 36 36 36 36 36 36 36 36 Trasporti pubblici Public transportation Dov'è la fermata dell'autobus? Where is the bus stop? Quale autobus va in centro? Which bus goes to the city center? Che linea devo prendere? Which bus do I have to take? Devo cambiare? Do I have to change? Dove devo cambiare? Where do I have to change? Where do I have to change? Quanto costa un biglietto? How much does a ticket cost? How much does a ticket cost? Quante fermate ci sono fino in centro? How many stops are there before the city center? How many stops are there before downtown? Deve scendere qui You have to get off here You have to get off here Deve scendere dietro You have to get off at the back You have to get off at the back La prossima metropolitana Arriva fra cinque minuti The next train is in five minutes The next train is in five minutes Il prossimo tram Passa fra dieci minuti Il prossimo autobus Passa fra quindici minuti The next bus Is in fifteen minutes The next bus The next bus Is in fifteen minutes Quando parte l'ultima metropolitana? When is the last train? When is the last train? Quando parte l'ultimo tram? When is the last tram? When is the last tram? Quando parte l'ultimo autobus? When is the last bus? When is the last bus? Ha il biglietto? Do you have a ticket? Do you have a ticket? Il biglietto No, non ce l'ho A ticket? No, I don't have one A ticket? No, I don't have one Allora deve pagare la multa Then you have to pay a fine Then you have to pay a fine Fifty languages Trentasette Thirty-seven In viaggio On route Lui va in motocicletta He drives a motorbike Lui va in bicicletta He rides a bicycle Lui va a piedi He walks Lui va con la nave He goes by ship He goes by ship Lui va in barca He goes by boat He goes by boat Lui nuota He swims He swims È pericoloso qui? Is it dangerous here? Is it dangerous here? È pericoloso fare l'autostop da soli? Is it dangerous to hitchhike alone? Is it dangerous to hitchhike alone? È pericoloso passeggiare da soli di notte? Is it dangerous to go for a walk at night? Ci siamo persi We got lost We got lost Abbiamo sbagliato strada We're on the wrong road Dobbiamo tornare indietro We must turn around Dove possiamo parcheggiare? Where can one park here? C'è un parcheggio? Is there a parking lot here? Is there a parking lot here? Per quanto tempo si può lasciare la macchina parcheggiata? How long can one park here? How long can one park here? Lei scia? Do you ski? Do you ski? Sale con lo ski lift? Do you take the ski lift to the top? Do you take the ski lift to the top? Si possono noleggiare degli sci? Can one rent skis here? Can one rent skis here? 50 languages Trent'otto 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 Tirty-eight Tirty-eight In taxi Tassi In the taxi In the taxi Mi chiami un tassi, per favore Quanto costa fino alla stazione? What does it cost to go to the station? What does it cost to go to the station? Quanto costa fino all'aeroporto? What does it cost to go to the airport? What does it cost to go to the airport? Sempre diritto, prego Please go straight ahead Please go straight ahead Qui giri destra, per favore Please turn right here Please turn right here All'angolo, giri a sinistra, per favore Please turn left at the corner Please turn left at the corner Ho fretta I'm in a hurry I'm in a hurry Ho tempo I have time I have time Vada più piano, per favore Please drive slowly Please drive slowly Si fermi qui, per favore Please stop here Please stop here Aspetti un momento, per favore Please wait a moment Please wait a moment Ritorno subito I'll be back immediately I'll be back immediately Mi dia la ricevuta, per favore Please give me a receipt Please give me a receipt Non ho spiccioli I have no change I have no change Va bene così Il resto è per lei Mi porti a questo indirizzo Drive me to this address Drive me to this address Mi porti al mio albergo Drive me to my hotel Drive me to my hotel Mi porti alla spiaggia Drive me to the beach Drive me to the beach Trentanove Trentanove Guasto alla macchina Car breakdown Car breakdown Dov'è il prossimo distributore di benzina? Where is the next gas station? Where is the next gas station? Ho bucato I have a flat tire I have a flat tire Può cambiare la ruota? Can you change the tire? Can you change the tire? Mi occorrono alcuni litri di gasolio I need a few liters of diesel I need a few liters of diesel Ho finito la benzina I have no more petrol I have no more petrol Ha un bidone di riserva? Do you have a petrol can? Do you have a jerry can? Dove posso telefonare? Where can I make a call? Where can I make a call? Ho bisogno di un autosoccorso Cerco un'officina I'm looking for a garage C'è stato un incidente An accident has occurred Dov'è il telefono più vicino? Where is the nearest telephone? Ha un cellulare? Do you have a mobile with you? Do you have a mobile with you? Ci occorre aiuto We need help Chiami un medico Call a doctor Chiami la polizia Call the police I documenti, per favore Your papers, please Your papers, please La patente, per favore Your license, please Your license, please Il libretto di circolazione, per favore Your registration, please Your registration, please 50 languages 40 40 Chiedere indicazioni Asking for directions Asking for directions Mi scusi Excuse me Excuse me Mi può aiutare? Can you help me? Can you help me? C'è un buon ristorante da queste parti? Is there a good restaurant around here? Is there a good restaurant around here? Qui all'angolo Giri a sinistra Take a left at the corner Take a left at the corner Poi segua diritto per un po' Then go straight for a while Then go straight for a while Dopo cento metri Giri a destra Then go right for a hundred meters Then go right for a hundred meters Può anche prendere l'autobus Può anche prendere il tramvia Il tram Può anche prendere il tram Può anche seguirmi in macchina Come arrivo allo stadio? Come arrivo allo stadio? Come arrivo allo stadio? Come arrivo allo stadio? Attraversi il ponte Cross the bridge Passi il tunnel Go through the tunnel Go through the tunnel Segua fino al terzo semaforo Drive until you reach the third traffic light Drive until you reach the third traffic light Prenda la prima strada a destra Then turn into the first street on your right Then turn into the first street on your right Poi al prossimo incrocio Continui diritto Then drive straight through the next intersection Then drive straight through the next intersection Scusi, come arrivo all'aeroporto? Excuse me, how do I get to the airport? Excuse me, how do I get to the airport? È meglio se prende la metropolitana It is best if you take the underground It is best if you take the underground Arrivi fino all'ultima fermata Simply get out at the last stop Simply get out at the last stop Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi 50 languages 41 Orientamento Where is Dove si trova l'ente per il turismo? Where is the tourist information office? Where is the tourist information office? Ha una pianta della città per me? Do you have a city map for me? Do you have a city map for me? Si può prenotare una camera qui? Can one reserve a room here? Can one reserve a room here? Dov'è il centro storico? Where is the old city? Where is the old city? Dov'è il duomo? Dov'è il museo? Where is the museum? Dov'è si possono comprare dei francobolli? Where can one buy stamps? Dov'è si possono comprare dei fiori? Dov'è si possono comprare dei biglietti? Dov'è si possono comprare dei biglietti? Dov'è il porto? Dov'è il mercato? Dov'è il mercato? Dov'è il mercato? Dov'è il castello? Quando comincia la visita guidata? Quando finisce la visita guidata? Quanto dura la visita guidata? How long is the tour? Vorrei una guida che parli tedesco. I would like a guide who speaks German. Vorrei una guida che parli italiano. I would like a guide who speaks Italian. Vorrei una guida che parli francese. I would like a guide who speaks French. I would like a guide who speaks French. Quarantadue. Quarantadue. Visita della città. E' aperto il mercato la domenica. Is the market open on Sundays? Is the market open on Sundays? E' aperta la fiera il lunedì. Is the fair open on Mondays? Is the fair open on Mondays? E' aperta l'esposizione il martedì. Is the museum open on Wednesdays? E' aperto lo zoo il mercoledì. Is the zoo open on Wednesdays? Is the zoo open on Wednesdays? E' aperta la galleria il venerdì. E' aperta la galleria il venerdì. Si deve pagare l'ingresso? Does one have to pay an entrance fee? Quanto costa l'ingresso? How much is the entrance fee? How much is the entrance fee? C'è uno sconto per gruppi? Is there a discount for groups? C'è uno sconto per bambini? Is there a discount for children? C'è uno sconto per studenti? C'è uno sconto per studenti? Di che edificio si tratta? What building is that? What building is that? Quando è stato costruito questo edificio? How old is the building? How old is the building? Chi l'ha costruito? Who built the building? Who built the building? Mi interesso di architettura. Mi interesso di arte. Mi interesso di arte. Mi interesso di pittura. I'm interested in paintings. I'm interested in paintings. Fifty languages. Quarantatré. Forty-three. Forty-three. Allo zoo. Lì c'è lo zoo. The zoo is there. The zoo is there. Lì ci sono le giraffe. The giraffes are there. The giraffes are there. Dove sono gli orsi? Where are the bears? Where are the bears? Dove sono gli elefanti? Where are the elephants? Where are the elephants? Dove sono i serpenti? Where are the snakes? Where are the snakes? Dove sono i leoni? Where are the lions? Where are the lions? Io ho una macchina fotografica. I have a camera. I have a camera. Io ho anche una telecamera. I also have a video camera. I also have a video camera. Dove trovo una batteria? Dove sono i pingüini? Dove sono i pingüini? Dove sono i pingüini? Dove sono i kanguri? Dove sono i rinoceronti? Where are the rhinos? Dove sono i rinoceronti? Dove sono i rinoceronti? Dove sono i rinoceronti? There is a cafe over there. There is a cafe over there. Lì c'è un ristorante. There is a restaurant over there. There is a restaurant over there. Dove sono i cammelli? Where are the camels? Where are the camels? Dove sono i gorilla e le zebre? Where are the gorillas and zebras? Where are the gorillas and the zebras? Dove sono le tigri e i coccodrilli? Where are the tigers and the crocodiles? Where are the tigers and the crocodiles? Fifty languages. Quarantaquattro. Forty-four. Forty-four. Uscire la sera. Going out in the evening. Going out in the evening. C'è una discoteca qui vicino? Is there a disco here? Is there a disco here? C'è un locale notturno qui vicino? Is there a nightclub here? Is there a nightclub here? C'è una taverna qui vicino? Is there a pub here? Is there a pub here? Cosa c'è stasera a teatro? What's playing at the theater this evening? What's playing at the theater this evening? Cosa c'è stasera al cinema? Cosa c'è stasera alla televisione? What's on TV this evening? Ci sono ancora biglietti per il teatro? Are tickets for the theatre still available? Ci sono ancora biglietti per il cinema? Are tickets for the cinema still available? Are tickets for the cinema still available? Ci sono ancora biglietti per la partita? Are tickets for the soccer game still available? Are tickets for the football game still available? Voglio sedermi proprio in fondo. I want to sit in the back. I want to sit in the back. Voglio sedermi in un posto al centro. I want to sit somewhere in the middle. Voglio sedermi in prima fila. Che cosa mi può consigliare? Could you recommend something? Could you recommend something? Quando comincia lo spettacolo? When does the show begin? When does the show begin? Può procurarmi un biglietto? Can you get me a ticket? Can you get me a ticket? C'è un campo da golf qui vicino? Is there a golf course nearby? Is there a golf course nearby? C'è un campo da tennis qui vicino? Is there a tennis court nearby? Is there a tennis court nearby? C'è una piscina qui vicino? Is there an indoor swimming pool nearby? Is there an indoor swimming pool nearby? Is there a tennis court nearby? Can you get me a ticket? 45 45 45 45 Al cinema At the cinema At the cinema Vogliamo andare al cinema We want to go to the cinema Oggi danno un bel film A good film is playing today Il film è appena uscito The film is brand new Dov'è la cassa? Where is the cash register? Ci sono ancora posti liberi? Are seats still available? Quanto costano i biglietti? Quando comincia lo spettacolo? Quando comincia lo spettacolo? Quando comincia lo spettacolo? Quanto dura il film? Si possono riservare dei biglietti? Can one reserve tickets? Io vorrei sedermi dietro I want to sit at the back Io vorrei sedermi davanti I want to sit at the front Io vorrei sedermi al centro I want to sit in the middle Il film è stato emozionante Il film non era noioso Ma il libro su cui si basa il film era meglio But the book on which the film was based Was better But the book on which the film was based Was better Com'era la colonna sonora? How was the music? How was the music? Com'erano gli attori? C'erano i sottotitoli in inglese? Were there English subtitles? Were there English subtitles? Per il libro E per i testi 50 languages 46 46 46 In discoteca In the discoteca In the discoteca È libero questo posto? Is this seat taken? Is this seat taken? Posso sedermi accanto a voi? May I sit with you? May I sit with you? Volentieri Sure Sure Li piace questa musica? How do you like the music? How do you like the music? È un po' troppo forte A little too loud A little too loud Ma il complesso suona bene But the band plays very well But the band plays very well Viene spesso qui Do you come here often? Do you come here often? No È la prima volta No This is the first time No This is the first time Non ci ero mai stato I've never been here before I've never been here before Balla Would you like to dance? Would you like to dance? Forse più tardi Maybe later Maybe later Non so ballare molto bene I can't dance very well I can't dance very well È molto semplice It's very easy It's very easy Glielo faccio vedere Glielo insegno io I'll show you I'll show you No Forse un'altra volta No Maybe some other time No Maybe some other time Sta aspettando qualcuno? Are you waiting for someone? Are you waiting for someone? Sì Il mio amico Yes For my boyfriend Yes For my boyfriend Eccolo che viene There he is There he is Fifty languages Quarantasette Forty seven Forty seven Preparativi del viaggio Preparing a trip Preparing a trip Devi preparare le nostre valigie You have to pack our suitcase You have to pack our suitcase Non devi dimenticare nulla Niente Don't forget anything Don't forget anything Hai bisogno di una grande valigia You need a big suitcase You need a big suitcase Non dimenticare il passaporto Don't forget your passport Don't forget your passport Non dimenticare il biglietto Don't forget your ticket Don't forget your ticket Non dimenticare gli assegni turistici Don't forget your traveler's checks Don't forget your traveler's checks Portati la crema solare Take some suntan lotion with you Take some suntan lotion with you Portati gli occhiali da sole Take the sunglasses with you Take the sunglasses with you Portati il cappello per il sole Take the sun hat with you Take the sun hat with you Vuoi portarti una cartina stradale Do you want to take a road map? Do you want to take a road map? Vuoi portarti una guida? Do you want to take a travel guide? Do you want to take a travel guide? Vuoi portarti un ombrello? Non dimenticare i pantaloni, le camicie e i calzini Non dimenticare le cravate, le cinture e le giacche Non dimenticare i pigiami, le camicie da notte e le magliette Remember to take pajamas, nightgowns and t-shirts Remember to take pajamas, nightgowns and t-shirts Hai bisogno di scarpe, sandali e stivali You need shoes, sandals and boots You need shoes, sandals and boots Hai bisogno di fazzoletti di carta, sapone e del tagliaunghie You need handkerchiefs, soap and a nail clipper Hai bisogno di un pettine, uno spazzolino e del dentifricio You need a comb, a toothbrush and toothpaste You need a comb, a toothbrush and toothpaste 50 languages Quarantotto Forty-eight Forty-eight Attività in vacanza Vacation activities Holiday activities È pulita la spiaggia? Is the beach clean? Is the beach clean? Si può fare il bagno? Can one swim there? Can one swim there? Non è pericoloso fare il bagno lì Isn't it dangerous to swim there? Isn't it dangerous to swim there? Si può noleggiare un ombrellone? Can one rent a sun umbrella here? Can one rent a sun umbrella here? Si può noleggiare un asdraio? Can one rent a deck chair here? Can one rent a deck chair here? Si può noleggiare una barca? Can one rent a boat here? Mi piacerebbe fare windsurf I would like to surf I would like to surf Mi piacerebbe fare immersione subacquea I would like to dive Mi piacerebbe fare dello sci nautico Mi piacerebbe fare dello sci nautico Mi piacerebbe fare dello sci nautico I would like to water ski Si può noleggiare un windsurf? Can one rent a surf boat? Can one rent a surfboard? Si può noleggiare un'attrezzatura per sommozzatori. Can one rent diving equipment? Si possono noleggiare degli sci d'acqua. Can one rent water skis? Sono ancora principiante. Sono di livello medio. I'm moderately good. I'm pretty good at it. Dov'è la sciovia? Where is the ski lift? Where is the ski lift? Hai portato gli sci? Do you have skis? Hai portato gli scarponi da sci? Do you have ski boots? Do you have ski boots? Fifty languages. Quarantanove. Forty-nine. Forty-nine. Sport. Sports. Sports. Fai dello sport? Do you exercise? Do you exercise? Sì. Devo fare del movimento. Vado in una società sportiva. I'm a member of a sports club. Giochiamo a calcio. We play soccer. We play football. Qualche volta nuotiamo. We swim sometimes. We swim sometimes. Oppure andiamo in bicicletta. Nella nostra città c'è uno stadio. There is a soccer stadium in our city. There is a football stadium in our city. C'è anche una piscina con la sauna. There is also a swimming pool with a sauna. There is also a swimming pool. With a sauna. E c'è un campo da golf. And there is a golf course. And there is a golf course. Cosa c'è in televisione? What is on TV? What is on TV? Stanno dando una partita di pallone. There's a soccer match on now. There is a football match on now. La squadra tedesca sta giocando contro quella inglese. The German team is playing against the English one. The German team is playing against the English one. Chi vince? Who is winning? Who is winning? Non ne ho idea. I have no idea. I have no idea. Al momento sono pari. It is currently a tie. It is currently a tie. L'arbitro viene dal Belgio. The referee is from Belgium. Adesso c'è un rigore. Now there is a penalty. Now there is a penalty. Goal. Uno a zero. Goal. One zero. Goal. One zero. Fifty languages. Cinquanta. Fifty. Fifty. In piscina. In the swimming pool. In the swimming pool. Oggi fa caldo. It is hot today. It is hot today. Andiamo in piscina? Shall we go to the swimming pool? Shall we go to the swimming pool? Hai voglia di andare a nuotare? Do you feel like swimming? Do you feel like swimming? Hai un asciugamano? Do you have a towel? Do you have a towel? Hai un costume da bagno da uomo? Do you have swimming trunks? Do you have swimming trunks? Hai un costume da bagno da donna? Do you have a bathing suit? Do you have a bathing suit? Sai nuotare? Can you swim? Can you swim? Sai andare sott'acqua? Sai tuffarti in acqua? Can you jump in the water? Can you jump in the water? Dov'è la doccia? Where is the shower? Where is the shower? Dov'è lo spogliatoio? Where is the changing room? Where is the changing room? Dove sono gli occhialini? Where are the swimming goggles? Where are the swimming goggles? È fonda l'acqua? Is the water deep? Is the water deep? È pulita l'acqua? Is the water clean? Is the water clean? È calda l'acqua? Is the water warm? Is the water warm? Ho freddo. I am freezing. I am freezing. L'acqua è troppo fredda. The water is too cold. The water is too cold. Io ora esco dall'acqua. I'm getting out of the water now. I am getting out of the water now. Visita il sito www.book2.de 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 50 languages 51 51 51 51 51 Fare spese Running errands Running errands Voglio andare in biblioteca. I want to go to the library. I want to go to the library. I want to go to the library. Voglio andare in libreria. I want to go to the bookstore. I want to go to the bookstore. Voglio andare all'edicola. I want to go to the newspaper stand. I want to go to the newspaper stand. Voglio prendere in prestito un libro. I want to borrow a book. Voglio comprare un libro. I want to buy a book. Voglio comprare un giornale. I want to buy a newspaper. Voglio andare in biblioteca per prendere in prestito un libro. I want to go to the library to borrow a book. Voglio andare in libreria per comprare un libro. Voglio andare all'edicola per comprare un giornale. I want to go to the newspaper stand to buy a newspaper. I want to go to the newspaper stand to buy a newspaper. Voglio andare dall'ottico. I want to go to the optician. Voglio andare al supermercato. I want to go to the supermarket. Voglio andare dal fornaio. I want to go to the bakery. Voglio comprare degli occhiali. I want to buy some glasses. I want to buy some glasses. Voglio comprare frutta e verdura. I want to buy fruit and vegetables. I want to buy fruit and vegetables. Voglio comprare panini e pane. Voglio andare dall'ottico per comprare degli occhiali. I want to go to the optician to buy glasses. I want to go to the optician to buy glasses. I want to go to the supermarket to buy frutta e verdura. I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. Voglio andare dal fornaio per comprare panini e pane. I want to go to the baker to buy rolls and bread. Fifty languages. Cinquantadue. Fifty-two. Fifty-two. Al centro commerciale. In the department store. In the department store. Andiamo in un centro commerciale? Shall we go to the department store? Shall we go to the department store? Devo fare spese. I have to go shopping. I have to go shopping. Voglio fare molti acquisti. I want to do a lot of shopping. I want to do a lot of shopping. Dove sono gli articoli da ufficio? Where are the office supplies? Where are the office supplies? Where is the office Control? Ho bisogno di buste e carta da lettere. I need envelopes and stationery. I need envelopes and stationery. I need pen substantially. I need pen漂 Edit voulez credit. Where is the furniture? Ho bisogno di un armadio e di un comò. I need a cupboard and a chest of drawers. Ho bisogno di una scrivania e di uno scaffale. I need a desk and a bookshelf. I need a desk and a bookshelf. Dove sono i giocattoli? Where are the toys? Ho bisogno di una bambola e un orsacchiotto. I need a doll and a teddy bear. Ho bisogno di un pallone e degli scacchi. I need a football and a chess board. I need a football and a chess board. Dove sono gli attrezzi? Dove sono gli utensili? Where are the tools? Where are the tools? Ho bisogno di un martello e di pinze. I need a hammer and a pair of pliers. I need a hammer and a pair of pliers. Ho bisogno di un trapano e di un cacciavite. Dov'è la gioielleria? Dov'è la gioielleria? Where is the jewelry department? Where is the jewelry department? Ho bisogno di una collana e di un braccialetto. I need a chain and a bracelet. I need a chain and a bracelet. Ho bisogno di un anello e di orecchini. I need a ring and earrings. I need a ring and earrings. 50 languages. 53 53 53 Negozi Shops Shops Cerchiamo un negozio di articoli sportivi. We're looking for a sports shop. Cerchiamo una macelleria. We're looking for a butcher shop. We're looking for a butcher shop. Cerchiamo una farmacia. We're looking for a pharmacy. We're looking for a chemist. Infatti vogliamo comprare un pallone. We want to buy a football. We want to buy a football. Infatti vogliamo comprare del salame. We want to buy salami. We want to buy salami. Infatti vogliamo comprare delle medicine. We want to buy medicine. We want to buy medicine. Cerchiamo negozio di articoli sportivi per comprare un pallone. We're looking for a sports shop to buy a football. We're looking for a sports shop to buy a football. Cerchiamo una macelleria per comprare del salame. We're looking for a butcher shop to buy salami. We're looking for a butcher's shop to buy salami. Cerchiamo una farmacia per comprare delle medicine. We're looking for a drugstore to buy medicine. We're looking for a chemist to buy medicine. Cerchiamo una gioielleria. Cerchiamo una gioielleria. I'm looking for a jeweler. Cerchiamo un fotografo. I'm looking for a photo equipment store. Cerchiamo una pasticceria. I'm looking for confectionery. I'm looking for a baker's. Infatti ho intenzione di comprare un anello. I actually plan to buy a ring. Infatti ho intenzione di comprare un rullino. Infatti ho intenzione di comprare una torta. I actually plan to buy a cake. Cerco una gioielleria per comprare un anello. Cerco un fotografo per comprare un rullino. I'm looking for a photoshop to buy a roll of film. Cerco una pasticceria per comprare una torta. I'm looking for a confectionery to buy a cake. I'm looking for a baker's to buy a cake. Fifty languages. Cinquantaquattro. Fifty-four. Fare spese. Shopping. Vorrei comprare un regalo. I want to buy a present. I want to buy a present. Ma niente di troppo caro. But nothing too expensive. But nothing too expensive. Forse una borsetta? Maybe a handbag. Maybe a handbag. Di che colore? Which color would you like? Which color would you like? Nera, marrone o bianca? Black, brown or white? Black, brown or white? Una grande o una piccola? A large one or a small one? A large one or a small one? Posso vedere un po' questa? May I see this one, please? May I see this one, please? È di pelle. Is it made of leather? Is it made of leather? O è di materiale sintetico? Or is it made of plastic? Or is it made of plastic? Di pelle, naturalmente. Of leather, of course. Of leather, of course. Questa è di ottima qualità. This is very good quality. This is very good quality. E la borsetta è veramente a un buon prezzo. And the bag is really very reasonable. And the bag is really very reasonable. Questa mi piace. I like it. I like it. La prendo. I'll take it. I'll take it. Posso cambiarla eventualmente? Can I exchange it if needed? Can I exchange it if needed? Naturalmente. Of course. Of course. Facciamo un pacco regalo. We'll gift wrap it. We'll gift wrap it. La cassa è da quella parte. The cashier is over there. The cashier is over there. Fifty languages. Cinquantacinque. Cinquantacinque. Fifty-five. Fifty-five. Lavorare. Working. Working. Che lavoro fa? What do you do for a living? What do you do for a living? Mio marito è medico. My husband is a doctor. My husband is a doctor. Lavoro come infermiera part-time. I work as a nurse part-time. I work as a nurse part-time. Presto andremo in pensione. We'll soon receive our pension. We will soon receive our pension. Ma le tasse sono alte. But taxes are high. But taxes are high. E l'assicurazione contro le malattie è costosa. And health insurance is expensive. And health insurance is expensive. Cosa vorresti fare? What would you like to become someday? What would you like to become someday? Io vorrei diventare ingegnere. I would like to become an engineer. Io voglio studiare all'università. I want to go to college. Io sono praticante. I am an intern. Non guadagno molto. I do not earn much. Faccio un tirocinio all'estero. I'm doing an internship abroad. I am doing an internship abroad. Questo è il mio capo. Ho dei colleghi gentili. Simpatici. I have nice colleagues. A mezzogiorno andiamo sempre in mensa. We always go to the cafeteria at noon. We always go to the cafeteria at noon. Cerco un posto di lavoro. I'm looking for a job. I am looking for a job. Sono disoccupato da un anno ormai. I have already been unemployed for a year. I have already been unemployed for a year. In questo paese ci sono troppi disoccupati. There are too many unemployed people in this country. There are too many unemployed people in this country. visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi. 50 languages 56 56 56 56 56 Sentimenti Feelings Feelings Aver voglia di To feel like Want to To feel like Want to Abbiamo voglia We feel like We want to We feel like We want to Non abbiamo voglia We don't feel like We don't want to We don't feel like We don't want to a ver paura to be afraid to be afraid ho paura I'm afraid I'm afraid non ho paura I am not afraid I am not afraid a ver tempo to have time to have time lui ha tempo he has time he has time lui non ha tempo he has no time he has no time annoiarsi to be bored to be bored lei si annoia she is bored she is bored lei non si annoia she is not bored she is not bored aver fame to be hungry to be hungry to be hungry avete fame are you hungry are you hungry non avete fame aren't you hungry aren't you hungry Aver sete To be thirsty Loro hanno sete They are thirsty Loro non hanno sete They are not thirsty They are not thirsty 50 Languages 57 Dal dottore At the doctor Ho un appuntamento dal dottore I have a doctor's appointment Ho l'appuntamento alle 10 I have the appointment at 10 o'clock Come si chiama? What is your name? What is your name? Per cortesia, si accomodi nella sala d'attesa Please take a seat in the waiting room Please take a seat in the waiting room Il dottore arriva subito The doctor is on his way The doctor is on his way Che assicurazione ha? What insurance company do you belong to? What insurance company do you belong to? Che cosa posso fare per lei? What can I do for you? What can I do for you? Prova dei dolori Do you have any pain? Do you have any pain? Dove le fa male? Where does it hurt? Where does it hurt? Ho sempre dolori alla schiena Mal di schiena I always have back pain I always have back pain Ho spesso mal di testa I often have headaches Qualche volta ho mal di pancia I sometimes have stomach aches Per favore, si metta a torso nudo Remove your top Remove your top Si sdrai sul lettino per cortesia Lie down on the examining table Lie down on the examining table La pressione è a posto Your blood pressure is okay Your blood pressure is okay Le faccio un'iniezione I will give you an injection I will give you an injection Le prescrivo delle medicine I will give you some pills I will give you some pills Le prescrivo una ricetta per la farmacia I'm giving you a prescription for the pharmacy I am giving you a prescription for the pharmacy I will give you a prescription for the pharmacy Fifty languages Cinquantotto Fifty-eight Parti del corpo Parts of the body Parts of the body Io disegno un uomo I am drawing a man I am drawing a man Prima la testa First the head First the head L'uomo indossa un cappello The man is wearing a hat The man is wearing a hat Non si vedono i capelli One cannot see the hair One cannot see the hair Non si vedono neanche le orecchie One cannot see the ears either One cannot see the ears either Non si vede neanche la schiena One cannot see his back either One cannot see his back either Io disegno gli occhi e la bocca I'm drawing the eyes and the mouth I am drawing the eyes and the mouth L'uomo balla e ride The man is dancing and laughing The man is dancing and laughing L'uomo ha il naso lungo The man has a long nose The man has a long nose Lui ha in mano un bastone He is carrying a cane in his hand He is carrying a cane in his hands Lui indossa anche una sciarpa intorno al collo He is also wearing a scarf around his neck He is also wearing a scarf around his neck È inverno e fa freddo It is winter and it is cold It is winter and it is cold Le braccia sono robuste The arms are athletic The arms are athletic Anche le gambe sono robuste The legs are also athletic The legs are also athletic L'uomo è fatto di neve The man is made of snow The man is made of snow Non indossa né pantaloni né cappotto Né soprabito He is neither wearing pants nor a coat He is neither wearing pants nor a coat Ma l'uomo non ha freddo But the man is not freezing But the man is not freezing È un pupazzo di neve He is a snowman He is a snowman 50 languages 59 59 59 Alle poste At the post office At the post office Dov'è la posta più vicina? Where is the nearest post office? Where is the nearest post office? È lontana la posta Is the post office far from here? Is the post office far from here? Dov'è la prossima buca delle lettere? Where is the nearest mailbox? Where is the nearest post box? Mi occorrono alcuni francobolli I need a couple of stamps I need a couple of stamps Per una cartolina ed una lettera For a card and a letter For a card and a letter Quanto costa un francobollo per l'America? How much is the postage to America? How much is the postage to America? Quanto pesa questo pacco? How heavy is the package? How heavy is the package? Posso spedirlo per posta aerea? Can I send it by airmail? Can I send it by airmail? Quanto ci mette ad arrivare? How long will it take to get there? How long will it take to get there? Dove posso telefonare? Where can I make a call? Where can I make a call? Dov'è la prossima cabina telefonica? Where is the nearest telephone booth? Where is the nearest phone box? Ha carte telefoniche? Do you have calling cards? Do you have calling cards? Ha un elenco telefonico? Do you have a telephone directory? Do you have a telephone directory? Sa il prefisso per l'Austria? Do you know the area code for Austria? Do you know the area code for Austria? Un momento che guardo. One moment, I'll look it up. One moment, I'll look it up. La linea è sempre occupata. The line is always busy. The line is always busy. Che numero ha fatto? Which number did you dial? Which number did you dial? Deve fare prima lo zero. You have to dial a zero first. You have to dial a zero first. Fifty languages. Sessanta Sixty Sixty In banca At the bank At the bank Vorrei aprire un conto. I would like to open an account. I would like to open an account. Ecco il mio passaporto. Here is my passport. Ed ecco il mio indirizzo. And here is my address. Vorrei fare un versamento sul mio conto. I want to deposit money in my account. I want to deposit money in my account. Vorrei fare un prelievo dal mio conto. I want to withdraw money from my account. I want to withdraw money from my account. Vorrei ritirare l'estratto conto. I want to pick up the bank statements. I want to pick up the bank statements. Vorrei incassare un assegno. Vorrei incassare un travel check. I want to cash a traveler's check. I want to cash a traveler's check. Quant'è la tariffa? What are the fees? What are the fees? Dove devo firmare? Where should I sign? Where should I sign? Sto aspettando un bonifico dalla Germania. I'm expecting a transfer from Germany. I'm expecting a transfer from Germany. Ecco il mio numero di conto. Here is my account number. Here is my account number. Sono arrivati i soldi? Has the money arrived? Has the money arrived? Vorrei cambiare questi soldi. I want to change money. I want to change money. Mi occorrono dollari USA. Per favore, mi dia banconote di piccolo taglio. Could you please give me small notes? Could you please give me small bills? C'è un banco, Matt, qui? Is there a cash point? Is there a cash point? Quale somma si può prelevare? How much money can one withdraw? How much money can one withdraw? Quali carte di credito si accettano? Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi. 50 languages Sessantuno 61 61 Numeri ordinali Ordinal numbers Il primo mese è gennaio The first month is January. Il secondo mese è febbraio. The second month is February. The second month is February. Il terzo mese è marzo. The third month is March. The third month is March. Il quarto mese è aprile. The fourth month is April. The fourth month is April. Il quinto mese è maggio. The fifth month is May. Il sesto mese è giugno. The sixth month is June. The sixth month is June. Sei mesi sono mezzo anno. Six months make half a year. Gennaio, febbraio, marzo. January, febbraio, marzo. January, febbraio, marzo. January, febbraio, marzo. Aprile, maggio e giugno. April, may and june. Il settimo mese è luglio. The seventh month is July. The seventh month is July. L'ottavo mese è agosto. Il nono mese è settembre. The ninth month is September. Il decimo mese è ottobre. The tenth month is October. The tenth month is October. L'undicesimo mese è novembre. The eleventh month is November. The eleventh month is November. Il dodicesimo mese è dicembre. The twelfth month is December. The twelfth month is December. Un anno ha dodici mesi. Twelve months make a year. Twelve months make a year. Luglio, agosto, settembre. July, august, settembre. July, august, settembre. Ottobre, novembre e dicembre. October, novembre and december. October, novembre and december. Fifty languages. Sessantadue. Sixty-two. Sixty-two. Fare domande. Uno. Asking questions, one. Imparare, studiare. To learn. Gli allievi studiano molto? Do the students learn a lot? Do the students learn a lot? No, studiano poco. No, they learn a little. No, they learn a little. Chiedere. To ask. To ask. Chiede spesso all'insegnante. Do you often ask the teacher questions? Do you often ask the teacher questions? No, non gli chiedo spesso. No, I don't ask him questions often. No, I don't ask him questions often. Rispondere. Risponda, per favore. Please reply. Io rispondo. I reply. Lavorare. To work. Lui sta lavorando? Is he working right now? Is he working right now? Si, sta lavorando. Yes, he is working right now. Yes, he is working right now. Venire. To come. To come. Viene. Do you live in Berlin? Are you coming? Are you coming? Sì, vengo subito. Yes, we are coming soon. Yes, we are coming soon. Abitare. To live. To live. Abita a Berlino. Do you live in Berlin? Do you live in Berlin? Sì, abito a Berlino. Yes, I live in Berlin. Yes, I live in Berlin. 50 languages. 63. 63. 63. Fare domande. Due. Asking questions. Due. Asking questions. Due. Where is the tennis court? Hai un hobby? Do you have a hobby? Gioco a calcio. I play football. I play football. Dov'è il campo da calcio? Where is the football field? Where is the football field? Mi fa male il braccio. My arm hurts. My arm hurts. Mi fanno male anche il piede e la mano. My foot and hand also hurt. My foot and hand also hurt. C'è un dottore? Is there a doctor? Is there a doctor? I have a car. I have a car. Io ho anche una moto. I also have a motorcycle. I also have a motorcycle. Dov'è trovo un parcheggio. Dov'è trovo un parcheggio? Where could I park? Where could I park? Dov'è trovo una lavatrice? Dov'è trovo una lavatrice? Where is the washing machine? Where is the washing machine? Io ho un piatto. I have a plate. I have a plate. Io ho un coltello, una forchetta e un cucchiaio. I have a knife, a fork, and a spoon. Dov'è sono sale e pepe? Where is the salt and pepper? Where is the salt and pepper? Fifty languages. Sessantaquattro Sixty-four Negazione, uno Negation, one Non capisco questa parola. I don't understand the word. I don't understand the word. Non capisco la frase. I don't understand the sentence. I don't understand the sentence. Non capisco il significato. I don't understand the meaning. I don't understand the meaning. L'insegnante The teacher Capisce l'insegnante? Do you understand the teacher? Do you understand the teacher? Sì, lo capisco bene. Sì, lo capisco bene. Yes, I understand him well. Yes, I understand him well. L'insegnante L'insegnante The teacher The teacher Capisce l'insegnante? Do you understand the teacher? Do you understand the teacher? Sì, la capisco bene. Yes, I understand her well. Yes, I understand her well. La gente The people The people Capisce la gente? Do you understand the people? Do you understand the people? No, non la capisco molto bene. No, I don't understand them so well. No, I don't understand them so well. L'amica La ragazza The girlfriend The girlfriend Ha un'amica? Ha una ragazza? Do you have a girlfriend? Do you have a girlfriend? Sì, ce l'ho. Yes, I do. Yes, I do. La figlia The daughter The daughter Ha una figlia? Do you have a daughter? Do you have a daughter? No, non ne ho. No, I don't. No, I don't. 50 languages 65 65 65 65 Negazione 2 Negation 2 Negation 2 2 È caro l'anello Is the ring Expensive? Is the ring Expensive? No, Costa solo 100 euro No, It costs Only 100 euros No, It costs Only 100 euros Ma io Ne ho Solo 50 50 But I have Only 50 But I have Only 50 Sei pronto? Are you Finished? Are you Finished? No, Non ancora No, Not yet No, Not yet Sono pronto Fra un momento But I'll be Finished Soon But I'll be Finished Soon Vorresti ancora Della minestra? Do you want Some more Soup? Do you want Some more Soup? No, Non ne voglio Più No, I don't Want Anymore No, I don't Want Anymore Ma ancora Un gelato But another Ice cream But another Ice cream Abiti qui Da tanto Tempo? Have you Lived here Long? Have you Lived here Long? No, Solo Da un Mese No, Only For a Month No, Only For a Month Ma Conosco Già Molta Gente But I Already Know A Lot Of People But I Already Know A Lot Of People Vai A Casa Domani Are You Driving Home Tomorrow Are You Driving Home Tomorrow No, Solo Per il Fine Settimana No, Only On The Weekend No, Only On The Weekend Ma Io Ritorno Già Domenica But I Will Be Back On Sunday But I Will Be Back On Sunday Tua figlia È Già Adulta Is Your Daughter An Adult Is Your Daughter An Adult No, Ha Appena Diciasette Anni No, She Is Only Seventeen No, She Is Only Seventeen Ma Lei Ha Già Un Amico But She Already Has A Boyfriend But She Already Has A Boyfriend Visita Il Sito www.book2.de www. .book2.de Per il libro E per i testi 50 languages 66 66 66 Pronomi possessivi 1 Possessive pronouns 1 Possessive pronouns 1 Io Il Mio La Mia I My I My Non Trovo La Mia Chiave I Can't Find My Key I Can't Find My Key Non Trovo Il Mio Biglietto I Can't Find My Ticket I Can't Find My Ticket Tu Il Tuo La Tua You Your You Your Chiave Have Have you found Your Key Have you found Your Key Have you found Your Ticket Have you found Your Ticket Lui Lui Il Suo La Sua He His He His Sai Dov'è La Sua Chiave Do you Know Where His Key Is Do you Know Where His Key Is Sai Dov'è Il Suo Biglietto Do you Know Where His Ticket Is Do you Know Where His Ticket Is Lei Il Suo La Sua She Her She Her Il Suo Denaro È Sparito Her Money Is Gone Her Money Is Gone E Anche La Sua Carta Di Credito Non C'è Più And Her Credit Card Is Also Gone And Her Credit Card Is Also Gone Noi Il Nostro We Our We Our Il Nostro Nonno È Malato Our Grandfather Is Ill Our Grandfather Is Ill La Nostra Nonna Sta Bene Our Grandmother Is Healthy Our Grandmother Is Healthy Voi Il Vostro You Your You Your Bambini Dov'è Il Vostro Papà Children Where Is Your Father Children Where Is Your Father Bambini Dov'è La Vostra Mamma Children Where Is Your Mother Children Where Is Your Mother Fifty Languages Sessantasette Sixty Seven Sixty Seven Pronomi Possessivi Due Possessive Pronouns Possessive Pronouns Two Gli Occhiali The Glasses The Glasses Lui Ha Dimenticato I Suoi Occhiali He Has Forgotten His Glasses He Has Forgotten His Glasses Ma Dove Sono I Suoi Occhiali Where Has He Left His Glasses Where Has He Left His Glasses L'Orologio The Clock The Clock Il Suo Orologio È Rotto His Clock Isn't Working His Clock Isn't Working L'Orologio È Appeso Alla Parete The Clock Hangs On The Wall The Clock Hangs On The Wall Il Passaporto The Passport The Passport Lui Ha Perso Il Suo Passaporto He Has Lost His Passport He Has Lost His Passport Ma Dov'è Il Suo Passaporto Where Is His Passport Then Where Is His Passport Then Loro Il Loro They There They There I Bambini Non Riescono A Trovare I Loro Genitori The Children Cannot Find Their Parents The Children Cannot Find Their Parents Ma Eccoli Che Vengono Here Come Their Parents Lei Il Suo You Your You Your Com'è Stato Il Suo Viaggio Signor Muller How Was Your Trip Mr. Miller How Was Your Trip Mr. Miller Dov'è Sua Moglie Signor Muller Where Where Your Wife Mr. Miller Where Is Your Wife Mr. Miller Lei Il Suo You Your You Your Com'è Stato Il Suo Viaggio Signora Smith How Was Your Trip Mrs. Smith How Was Your Trip Mrs. Smith Dov'è Suo Marito Signora Smith Where Is Your Husband Mrs. Smith Where Is Your Husband Mrs. Smith 50 Languages 68 68 68 Grande Piccolo Big Small Big Small Grande Big Big And Small Big And Small L'Elefante È Grande The Elephant Is Big The Elephant Is Big Il Topo È Piccolo The Mouse Is Small The Mouse Is Small Scuro E Chiaro Dark And Bright Dark And Bright La Notte È Scura The Night Is Dark The Night Is Dark Il Giorno È Chiaro The Day Is Bright The Day Is Bright Giovane E Vecchio Old And Young Old And Young Nostro Nonno È Molto Anziano Our Grandfather Is Very Old Our Grandfather Is Very Old Settant'anni Fa Era Ancora Giovane Seventy Years Ago He Was Still Young Seventy Years Ago He Was Still Young Bello E Brutto Beautiful And Ugly Beautiful And Ugly La Farfalla È Bella The Butterfly Is Beautiful The Butterfly Is Beautiful Il Ragno È Brutto The Spider Is Ugly The Spider Is Ugly Grosso E Magro Fat And Thin Fat And Thin Una Donna Di Cento Chili È Grassa A Woman Who Weighs A Hundred Kilos Is Fat A Woman Who Weighs A Hundred Kilos Is Fat Un Uomo Di Cinquanta Kili È Magro A Man Who Weighs Fifty Kilos Is Thin A Man Who Weighs Fifty Kilos Is Thin Caro E Non Caro Costoso E Non Costoso Expensive And Cheap Expensive And Cheap La Macchina È Cara La Macchina È Costosa The Car Is Expensive The Car Is Expensive Il Giornale Non È Caro Il Giornale Non È Costoso The Newspaper Is Cheap The Newspaper Is Cheap Fifty Languages Sessantanove Sixty Nine Sixty Nine Aver Bisogno Volere To Need To To Want To To Need To To Want To Ho Bisogno Di Un Letto I Need A Bed I Need A Bed Voglio Dormire I Want To Sleep I Want To Sleep C'è Un Letto Qui Is There A Bed Here Is There A Bed Here Ho Bisogno Di Una Lampada I Need A Lamp I Need A Lamp Voglio Leggere I Want To Read I Want To Read C'è Una Lampada Qui Is There A Lamp Here Is There A Lamp Here Ho Bisogno Di Un Telefono I Need A Telephone I Need A Telephone Voglio Fare Una Chiamata I Want To Make A Call I Want To Make A Call C'è Un Telefono Qui Is Is There A Telephone Here Is There A Telephone Here Ho Bisogno Di Una Macchina Fotografica I Need A Camera I Need A Camera Voglio Fotografare I Want To Take Photographs I Want To Take Photographs C'è Una Macchina Fotografica Qui Is Is There A Camera Here Is There A Camera Here Ho Bisogno Di Un Computer I Need A Computer I Need A Computer Voglio Mandare Un E-mail I Want To Send An E-mail I Want To Send An E-mail C'è Un Computer Qui Is Is There A Computer Here Is There A Computer Here Ho Bisogno Di Una Penna I Need A Pen I Need A Pen Voglio Scrivere Qualcosa I Want To Write Something I Want To Write Something Ci Sono Un Foglio Di Carta E Una Penna Qui Is There A Sheet Of Paper And A Pen Here Is There A Sheet Of Paper And A Pen Here Fifty Languages Settanta Seventy Aver Voglia Di Qualcosa To Like Something To Like Something Le Va Di Fumare Would You Like To Smoke Would You Like To Smoke Le Va Di Ballare Would You Like To Dance Would You Like To Dance Le Va Di Fare Una Passeggiata Would You Like To Go For A Walk Would You Like To Go For A Walk Vorrei Fumare I Would Like To Smoke I Would Like To Smoke Vuoi Una Sigaretta Would You Like A Cigarette Would You Like A Cigarette Lui Vorrebbe Accendere Una Sigaretta He Wants A Light He Wants A Light Vorrei Bere Qualcosa I Want To Drink Something Vorrei Mangiare Qualcosa I Want To Eat Something Vorrei Riposarmi Un Po I Want To Relax A Little Vorrei Chiederle Una Cosa I Want To Ask You Something Vorrei Chiederle Un Favore Vorrei Offrirle Qualcosa I Want To Treat You To Something I Want To Treat You To Something Desidera Prego What Would You Like What Would You Like Gradisce Un Caffè Would You Like A Coffee Would You Like A Coffee O Preferisce Un Tè Or Do You Prefer A Tea Or Do You Prefer A Tea Vorremmo Andare A Casa We Want To Drive Home We Want To Drive Home Vorreste Un Tassi Do You Want A Taxi Do You Want A Taxi Loro Vorrebbero Telefonare They Want To Make A Call They Want To Make A Call Visita Il Sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi 50 languages 71 71 71 71 Voler Qualcosa To Want Something To Want Something Che Cosa Volete What Do You Want To Do What Do You Want To Do Volete Giocare A Pallone Do You Want To Play Football Do Do You Want To Play Football Volete Andare A Trovare Degli Amici Do You Want To Visit Friends Do You Want To Visit Friends Volere To Want To Want Non Voglio Arrivare In Ritardo I Don't Want To Arrive Late I Don't Want To Arrive Late Non Voglio Andarci I Don't Want To Go There I Don't Want To Go There Voglio Andare A Casa I Want To Go Home I Want To Go Home Voglio Restare A Casa I Want To Stay At Home I Want To Stay At Home Voglio Essere Solo Voglio Stare Da Solo I Want To Be Alone I Want To Be Alone Do Do you Want To Stay Here Do you Want To Stay Here Vuoi Mangiare Qui Do you Want To Eat Here Do you Want To Eat Here Vuoi Dormire Qui Do you Want To Sleep Here Do you Want To Sleep Here Vuole Partire Domani Do you Want To Leave Tomorrow Do you Want To Leave Tomorrow Vuole Restare Fino Domani Do you Want To Stay Till Tomorrow Do you Want To Stay Till Tomorrow Vuole Pagare Il Conto Solo Domani Do you Want To Pay The Bill Only Tomorrow Do you Want To Pay The Bill Only Tomorrow Volete Andare In Discoteca Do you Want To Go To The Disco Do you Want To Go To The Disco Volete Andare Al Cinema Do you Want To Go To The Cinema Do you Want To Go To The Cinema Volete Andare Al Bar Do you Want To Go To A Café Do you Want To Go To A Café Settantadue Dover fare qualcosa To have to do something, must Dovere Must Devo spedire la lettera I must post the letter Devo pagare l'albergo I must pay the hotel Devi alzarti presto You must get up early Devi lavorare molto You must work a lot Devi essere puntuale You must be punctual Lui deve fare benzina He must get petrol He must get petrol Lui deve aggiustare la macchina He must repair the car He must repair the car Lui deve lavare la macchina He must wash the car He must wash the car Lei deve fare la spesa She must shop She must shop Lei deve pulire la casa She must clean the apartment She must clean the apartment Lei deve lavare la biancheria She must wash the clothes She must wash the clothes Dobbiamo andare subito a scuola You must go to school at once We must go to school at once Dobbiamo andare subito al lavoro You must go to work at once We must go to work at once Dobbiamo andare subito dal medico Dovete aspettare l'autobus You must wait for the bus You must wait for the bus Dovete aspettare il treno You must wait for the train You must wait for the train Dovete aspettare il taxi You must wait for the taxi You must wait for the taxi Fifty languages Settantatree Seventy-three Seventy-three Potere To be allowed to To be allowed to Puoi già guidare Are you already allowed to drive? Are you already allowed to drive? Puoi già bere alcool Are you already allowed to drink alcohol? Are you already allowed to drink alcohol? Puoi già andare all'estero da solo? Are you already allowed to travel abroad alone? Potere, essere permesso. May, to be allowed. Possiamo fumare qui? May we smoke here? È permesso fumare qui? Is smoking allowed here? Si può pagare con la carta di credito? May one pay by credit card? May one pay by credit card? Si può pagare con un assegno? May one pay by check? May one pay by check? Si può pagare solo in contanti? May one only pay in cash? May one only pay in cash? Posso telefonare un momento? May I just make a call? May I just make a call? Posso chiedere qualcosa? May I just ask something? May I just ask something? Posso dire qualcosa? May I just say something? May I just say something? Non può dormire al parco? Non può dormire in auto, macchina. He is not allowed to sleep in the car. Non può dormire in stazione. He is not allowed to sleep at the train station. Possiamo sederci? May we take a seat? Possiamo avere il menu? May we have the menu? Possiamo pagare separatamente? May we pay separately? May we pay separately? Fifty languages. Settantaquattro. Seventy-four. Seventy-four. Chiedere qualcosa. Asking for something. Asking for something. Mi può tagliare i capelli? Can you cut my hair? Can you cut my hair? Non troppo corti, per favore. Not too short, please. Not too short, please. Un po' più corti, per favore. A bit shorter, please. A bit shorter, please. Può sviluppare le foto? Can you develop the pictures? Can you develop the pictures? Le foto sono nel CD. The pictures are on the CD. The pictures are on the CD. Le foto sono nella macchina fotografica. Può aggiustare l'orologio? The pictures are in the camera. The pictures are in the camera. Può aggiustare l'orologio? Can you fix the clock? Can you fix the clock? Il vetro è rotto. The glass is broken. The glass is broken. La batteria è scarica. The battery is dead. The battery is dead. Può stirare la camicia? Can you iron the shirt? Can you iron the shirt? Può pulire i pantaloni? Can you clean the pants? Can you clean the trousers? Può aggiustare le scarpe? Can you fix the shoes? Can you fix the shoes? Ha da accendere. Do you have a light? Do you have a light? Ha dei fiammiferi o un accendino? Do you have a match or a lighter? Do you have a match or a lighter? Ha un portacenere? Do you have an ashtray? Do you have an ashtray? Fuma sigari? Do you smoke cigars? Do you smoke cigars? Fuma sigarette? Do you smoke cigarettes? Do you smoke cigarettes? Fuma la pipa? Do you smoke a pipe? Do you smoke a pipe? 50 languages 75 75 75 75 75 75 Giustificare qualcosa 1 Giving reasons 1 Giving reasons 1 Why aren't you coming? Why aren't you coming? 2 Il tempo è così brutto 2 The weather is so bad 3 The weather is so bad 3 Non vengo perché il tempo è così brutto 3 I'm not coming because the weather is so bad I am not coming because the weather is so bad 4 Perché non viene? Why isn't he coming? Why isn't he coming? Non è invitato 5 He isn't invited 5 He isn't invited 6 Non viene perché non è invitato 6 He isn't coming because he isn't invited 7 He isn't coming because he isn't invited 7 Perché non vieni? 7 Why aren't you coming? 8 Why aren't you coming? 9 Non ho tempo 9 I have no time 10 I have no time 10 Non vengo perché non ho tempo I'm not coming because I have no time 11 I am not coming because I have no time 11 Perché non resti? 11 Why don't you stay? 12 Why don't you stay? 12 Devo ancora lavorare 12 I still have to work 12 I still have to work 13 Non resto perché non ho tempo perché devo lavorare ancora 13 I'm not staying because I still have to work 14 I am not staying because I still have to work 14 Perché già se ne va? 15 Why are you going already? 15 Why are you going already? 15 Sono stanco 16 I am tired 16 I am tired 16 Me ne vado perché sono stanco 16 I'm going because I'm tired 17 I'm going because I'm tired 17 Perché parte già? 17 Why are you going already? 18 Why are you going already? 18 19 È già tardi 19 It is already late 19 It is already late 20 Parto perché è già tardi 20 I'm going because it is already late 20 I'm going because it is already late 20 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 21 22 Perché non sei venuto? Ero malato. Non sono venuto perché ero malato. Perché lei non è venuta? Era stanca. Lei non è venuta perché era stanca. Perché non è venuto? Non ne aveva voglia. Non è venuto perché non ne aveva voglia. Perché non siete venuti? La nostra macchina è rotta. Non siamo venuti perché la nostra macchina è rotta. Perché non sono venuti? Perché non sono venuti? Perché non sono venuti? Hanno perso il treno. Non sono venuti perché hanno perso il treno. Non sono venuti perché hanno perso il treno. Perché non sei venuto? Non sono venuto perché non sono venuto. Non sono venuto perché non potevo. I didn't come because I was not allowed to. Fifty languages. Settantasette. Seventy seven. Seventy seven. Giustificare qualcosa. Tre. Giving reasons. Three. Giving reasons. Three. Perché non mangia la torta? Why aren't you eating the cake? Why aren't you eating the cake? Devo dimagrire. I must lose weight. I must lose weight. Non la mangio perché devo dimagrire. I'm not eating it because I must lose weight. I'm not eating it because I must lose weight. Perché non beve la birra? Why aren't you drinking the beer? Why aren't you drinking the beer? Devo guidare. I have to drive. I have to drive. Non la bevo perché devo guidare. I'm not drinking it because I have to drive. I'm not drinking it because I have to drive. Perché non bevi il caffè? Why aren't you drinking the coffee? Why aren't you drinking the coffee? È freddo. It is cold. Non lo bevo perché è freddo. I'm not drinking it because it is cold. I'm not drinking it because it is cold. Perché non bevi il tè? Why aren't you drinking the tea? Why aren't you drinking the tea? I have no sugar. I have no sugar. Non lo bevo perché non ho zucchero. I'm not drinking it because I don't have any sugar. I'm not drinking it because I don't have any sugar. Perché non mangia la minestra? Why aren't you eating the soup? Why aren't you eating the soup? Non l'ho ordinata. Non la mangio perché non l'ho ordinata. I'm not eating it because I didn't order it. I'm not eating it because I didn't order it. Perché non mangia la carne? Why don't you eat the meat? Why don't you eat the meat? Sono vegetariano. I am a vegetarian. Non la mangio perché sono vegetariano. I'm not eating it because I am a vegetarian. I'm not eating it because I'm a vegetarian. 50 languages 78 78 78 Adgettivi 1 Adjectives 1 Adjectives 1 Una donna anziana An old lady An old lady Una donna grassa A fat lady A fat lady Una donna curiosa A curious lady A curious lady Una macchina nuova A new car A new car Una macchina veloce A fast car A fast car Una macchina comoda A comfortable car A comfortable car Un vestito Un vestito azzurro A blue dress A blue dress A blue dress Un vestito rosso A red dress A red dress Un vestito verde A green dress Una borsa nera Una borsa nera A black bag A black bag Una borsa marrone A brown bag A brown bag Una borsa bianca A white bag A white bag A white bag Gente carina Persone carine Nice people Nice people Nice people Gente gentile Persone gentili Polite people Polite people Polite people Persone interessanti Interesting people Interesting people Bambini cari Loving children Loving children Bambini impertinenti Cheeky children Cheeky children Bambini bravi Well behaved Children Well behaved Children 50 languages Settantanove Seventy nine Seventy nine Aggettivi Due Adjectives Two Adjectives Indosso Un abito Azzurro I'm wearing A blue dress I am wearing A blue dress Indosso Un abito Rosso I'm wearing A red dress I am wearing A red dress Indosso Un abito Verde I'm wearing A green dress I am wearing A green dress Compro una borsa nera I'm buying a black bag Compro una borsa marrone Compro una borsa marrone I'm buying a brown bag Compro una borsa bianca I'm buying a white bag I'm buying a white bag I'm buying a white bag Ho bisogno di una macchina nuova I need a new car I need a new car Ho bisogno di una macchina veloce I need a fast car I need a fast car Ho bisogno di una macchina comoda I need a comfortable car I need a comfortable car Lassù abita una donna anziana An old lady lives at the top An old lady lives at the top Lassù abita una donna grassa A fat lady lives at the top A fat lady lives at the top Laggiù abita una donna curiosa A curious lady lives below A curious lady lives below I nostri ospiti erano carini Our guests were nice people Our guests were nice people I nostri ospiti erano gentili Our guests were polite people Our guests were polite people I nostri ospiti erano interessanti Our guests were interesting people Our guests were interesting people Ho dei cari bambini I have lovely children I have lovely children Ma i vicini hanno dei bambini impertinenti But the neighbors have naughty children But the neighbors have naughty children Sono buoni i suoi bambini Are your children well behaved? Are your children well behaved? 50 languages 80 80 80 80 Aggettivi 3 Adjectives 3 Adjectives 3 Lei ha un cane She has a dog She has a dog Il cane è grande The dog is big The dog is big Lei ha un cane grande She has a big dog She has a big dog Lei ha una casa Lui abita in un albergo He is staying in a hotel He is staying in a hotel L'albergo è a buon mercato The hotel is cheap The hotel is cheap Lui abita in un albergo economico He is staying in a cheap hotel He is staying in a cheap hotel Lui ha una macchina He has a car He has a car La macchina è cara Lui ha una macchina costosa He has an expensive car Lui legge un romanzo He reads a novel He reads a novel Il romanzo è noioso The novel is boring The novel is boring Lui legge un romanzo noioso He is reading a boring novel He is reading a boring novel Lei guarda un film She is watching a movie She is watching a movie Il film è avvincente The movie is exciting The movie is exciting Lei guarda un film avvincente She is watching an exciting movie She is watching an exciting movie Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi 50 languages Ottantuno Eighty-one Passato uno Past tense one Scrivere To write Lui ha scritto una lettera He wrote a letter He wrote a letter E lei ha scritto una cartolina And she wrote a card And she wrote a card To read Leggere To read To read Lui ha letto una rivista He read a magazine He read a magazine E lei ha letto un libro And she read a book And she read a book And she read a book Prendere Prendere To take To take Lui ha preso una sigaretta He took a cigarette Lei ha preso un pezzo di cioccolato She took a piece of chocolate She took a piece of chocolate Lui era infedele Ma lei era fedele He was disloyal But she was loyal He was disloyal But she was loyal Lui era pigro Ma lei era attiva He was lazy Lui era povero Ma lei era ricca He was poor But she was rich Lui non aveva soldi Ma debiti He had no money Only debts He had no money Only debts Lui non aveva fortuna Ma sfortuna He had no luck Only bad luck He had no luck Only bad luck Lui non aveva successo Ma insuccesso He had no success Only failure He had no success Only failure Lui non era contento Ma scontento He was not satisfied But dissatisfied He was not satisfied But dissatisfied Lui non era felice Ma infelice Ma infelice He was not happy But sad He was not happy But sad Lui non era simpatico Ma antipatico Lui non era simpatico Lui non era simpatico He was not friendly But unfriendly MAKK Lui non era simpatico 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 Ok s'ha war Eighty two Eighty two Passato Due Past tense Two Past tense Two Hai dovuto chiamare l'ambulanza? Did you have to call an ambulance? Hai dovuto chiamare il medico? Did you have to call the doctor? Hai dovuto chiamare la polizia? Did you have to call the police? Did you have to call the police? Ha il numero di telefono? Un momento fa ce l'avevo. Do you have the telephone number? I had it just now. Ha l'indirizzo? Un momento fa ce l'avevo. Do you have the address? I had it just now. Do you have the address? I had it just now. Ha la pianta della città. Un momento fa ce l'avevo. Do you have the city map? I had it just now. Do you have the city map? I had it just now. è stato puntuale? Non è riuscito ad essere puntuale. Did he come on time? He could not come on time. Ha trovato la strada? Non riusciva a trovare la strada. Did he find the way? Did he find the way? He could not find the way. Ti capiva? Non riusciva a capirmi. Did he understand you? He could not understand me. Did he understand you? He could not understand me. Perché non sei riuscito ad arrivare puntualmente? Why could you not come on time? Why could you not come on time? Perché non riuscivi a trovare la strada? Why could you not find the way? Why could you not find the way? Perché non riuscivi a capirlo? Non sono riuscito ad arrivare puntualmente perché l'autobus non veniva. I could not come on time because there were no buses. Non sono riuscito a trovare la strada perché non avevo la pianta della città. Non sono riuscito a capirlo perché la musica era troppo alta. Ho dovuto comprare una pianta della città. Ho dovuto spegnere la radio. Ho dovuto spegnere la radio. Ottanta tre. Eighty-three. Eighty-three. Passato tre. Past tense three. Past tense three. Telefonare. To make a call. To make a call. To make a call. Ho telefonato. I made a call. I made a call. Ho telefonato per tutto il tempo. I was talking on the phone all the time. I was talking on the phone all the time. Chiedere. To ask. To ask. Ho chiesto. I asked. I asked. I asked. Ho sempre chiesto. I always asked. I always asked. I always asked. I always asked. Raccontare. To narrate. To narrate. To narrate. Ho raccontato. I narrated. I narrated. I narrated. Ho raccontato tutta la storia. I narrated the whole story. I narrated the whole story. Studiare. To study. To study. To study. To study. Ho studiato. I studied. I studied. I studied. Ho studiato tutta la sera. I studied the whole evening. I studied the whole evening. Lavorare. To work. To work. Ho lavorato. I worked. I worked. Ho lavorato tutto il giorno. I worked all day long. I worked all day long. Mangiare. To eat. To eat. Ho mangiato. I ate. I ate. I ate. Ho mangiato tutto. I ate all the food. I ate all the food. I ate all the food. 50 languages. 84. 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 Ho letto tutto il romanzo. I read the whole novel. Capire. To understand. Ho capito. Ho capito tutto il testo. I understood the whole text. Rispondere. To answer. Ho risposto. Ho risposto a tutte le domande. Lo so. Lo sapevo. Lo scrivo. L'ho scritto. Lo sento. L'ho sentito. Vado a prenderlo. Sono andato a prenderlo. Lo so. I'll get it. I got it. I'll get it. I got it. Lo porto. L'ho portato. I'll bring that. I brought that. I'll bring that. I brought that. Lo compro. I'll buy that. I bought that. Me lo aspetto. Me lo aspettavo. I expect that. I expected that. I expect that. I expected that. Lo spiego. L'ho spiegato. I'll explain that. I explained that. Non mi è nuovo. Lo so. Lo sapevo. I know that. I knew that. I know that. I knew that. Fifty languages. Ottantacinque. Eighty-five. Domande. Passato. Uno. Quanto ha bevuto? How much did you drink? Quanto ha lavorato? Quanto ha scritto? How much did you write? How much did you write? Come ha dormito? How did you sleep? How did you sleep? Come ha fatto a superare l'esame? How did you pass the exam? How did you pass the exam? Come ha fatto a trovare la strada? How did you find the way? How did you find the way? Con chi ha parlato? Who did you speak to? Who did you speak to? Con chi ha preso appuntamento? With whom did you make an appointment? With whom did you make an appointment? Con chi ha festeggiato il compleanno? With whom did you celebrate your birthday? With whom did you celebrate your birthday? Dov'è stato? Where were you? Where were you? Dove ha abitato? Where did you live? Where did you live? Dove ha lavorato? Where did you work? Where did you work? Che cosa ha consigliato? What did you suggest? What did you suggest? Che cosa ha mangiato? What did you eat? What did you eat? Che cosa è venuto a sapere? What did you experience? What did you experience? A che velocità è andato? How fast did you drive? How fast did you drive? Quanto è durato il volo? How long did you fly? How long did you fly? Fino a che altezza è saltato? How high did you jump? How high did you jump? Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi Che cravatta hai indossato? Che macchina hai comprato? Che macchina hai comprato? Which car did you buy? A che giornale ti sei abbonato? Which newspaper did you subscribe to? Which newspaper did you subscribe to? Chi ha visto? Who did you see? Who did you see? Chi ha incontrato? Who did you meet? Chi ha riconosciuto? Who did you recognize? Who did you recognize? Quando si è alzato? When did you get up? When did you get up? Quando ha cominciato? When did you start? When did you start? Quando ha finito? When did you finish? When did you finish? Perché si è svegliato? Why did you wake up? Why did you wake up? Perché è diventato insegnante? Why did you become a teacher? Why did you become a teacher? Perché ha preso un tassi? Why did you take a taxi? Why did you take a taxi? Da dov'è venuto? Where did you come from? Where did you come from? Dov'è andato? Where did you go? Where did you go? Dov'è stato? Where were you? Where were you? Chi hai aiutato? Who did you help? Who did you help? A chi hai scritto? Who did you write to? Who did you write to? A chi hai risposto? Who did you reply to? Who did you reply to? 50 languages 87 87 87 87 Passato Verbi modali 1 Past tense of modal verbs 1 Past tense of modal verbs 1 7 We had to water the flowers We had to water the flowers We had to water the flowers Abbiamo dovuto mettere in ordine l'appartamento 8 We had to clean the apartment We had to clean the apartment Abbiamo dovuto lavare i piatti We had to wash the dishes Avete dovuto pagare il conto? Did you have to pay the bill? Avete dovuto pagare l'ingresso? Did you have to pay an entrance fee? Avete dovuto pagare una multa? Did you have to pay a fine? Da chi ha dovuto accomiatarsi? Who had to say goodbye? Chi ha dovuto andare a casa presto? Who had to go home early? Chi ha dovuto prendere il treno? Who had to take the train? Non volevamo restare a lungo We did not want to stay long We did not want to stay long Non volevamo bere niente Non volevamo disturbare We did not want to disturb you Volevo solo telefonare I just wanted to make a call I just wanted to make a call Volevo chiamare un taxi I just wanted to call a taxi Infatti volevo andare a casa Infatti volevo andare a casa Actually, I wanted to drive home Pensavo che tu volessi telefonare a tua moglie Pensavo che tu volessi chiamare le informazioni Pensavo che tu volessi chiamare le informazioni Pensavo che tu volessi ordinare una pizza I thought you wanted to order pizza I thought you wanted to order a pizza Fifty languages Ottantotto Eighty-eight Passato Verbi modali Due Past tense of modal verbs To Past tense of modal verbs To Mio figlio non voleva giocare con la bambola My son did not want to play with the doll My son did not want to play with the doll Mia figlia non voleva giocare a pallone My daughter did not want to play football My daughter did not want to play soccer Mia moglie non voleva giocare a scacchi con me My wife did not want to play chess with me My wife did not want to play chess with me I miei figli non volevano fare una passeggiata My children did not want to go for a walk My children did not want to go for a walk Non volevano riordinare la camera They did not want to tidy the room They did not want to tidy the room Non volevano andare a letto They did not want to go to bed Lui non poteva mangiare il gelato He was not allowed to eat ice cream He was not allowed to eat ice cream Lui non poteva mangiare il cioccolato He was not allowed to eat chocolate He was not allowed to eat chocolate Lui non poteva mangiare le caramelle He was not allowed to eat sweets He was not allowed to eat sweets Ho potuto esprimere un desiderio I was allowed to make a wish I was allowed to make a wish Ho potuto comprarmi un vestito I was allowed to buy myself a dress I was allowed to buy myself a dress Ho potuto prendere un cioccolattino I was allowed to take a chocolate I was allowed to take a chocolate Potevi fumare in aereo? Were you allowed to smoke in the airplane? Were you allowed to smoke in the airplane? Potevi bere la birra in ospedale? Were you allowed to drink beer in the hospital? Were you allowed to drink beer in the hospital? Potevi portare il cane in albergo? Were you allowed to take the dog into the hotel? Were you allowed to take the dog into the hotel? Durante le vacanze i bambini potevano restare a lungo fuori During the holidays the children were allowed to remain outside late During the holidays the children were allowed to remain outside late Loro potevano giocare a lungo nel cortile They were allowed to play in the yard for a long time Loro potevano restare svegli fino a tardi They were allowed to stay up late They were allowed to stay up late Fifty languages Loro potevano restare svegli Ottantanove Eighty-nine Eighty-nine Imperativo uno Imperative one Imperative one Tu sei così pigro Non essere così pigro You are so lazy Don't be so lazy You are so lazy Don't be so lazy Tu dormi tanto Non dormire tanto You sleep for so long Don't sleep so late You sleep for so long Don't sleep so late Tu arrivi così tardi Non arrivare così tardi You come home so late Don't come home so late You come home so late Don't come home so late Tu ridi così forte Non ridere così forte Tu parli così a bassa voce Non parlare così a bassa voce You speak so softly Don't speak so softly You speak so softly Don't speak so softly Tu bevi troppo Non bere tanto You drink too much Don't drink so much You drink too much Don't drink so much Tu fumi troppo Non fumare tanto You smoke too much Don't smoke so much You smoke too much Don't smoke so much Tu lavori troppo Non lavorare tanto You work too much Don't work so much Tu vai troppo forte Non andare così forte You drive too fast Don't drive so fast You drive too fast Don't drive so fast Si alzi, signor Müller Get up, Mr. Miller Get up, Mr. Miller Si accomodi, signor Müller Sit down, Mr. Miller Sit down, Mr. Miller Resti seduto, signor Müller Remain seated, Mr. Miller Remain seated, Mr. Miller Abbia pazienza Be patient Be patient Faccia con comodo Take your time Aspetti un momento Wait a moment Wait a moment Faccia attenzione Be careful Be careful Sia puntual Be punctual Be punctual Non sia stupido Don't be stupid Don't be stupid 50 languages 90 90 Imperativo Imperative 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 Fatti la barba Shave Shave Lavati Wash yourself Wash yourself Pettinati Comb Comb your hair Comb your hair Telefonami Mi telefoni Call Call Comincia Cominci Begin Begin Smettila La smetta Stop Stop Lascia stare. Lasci stare. Leave it. Di questo. Dica questo. Say it. Compra questo. Compri questo. Buy it. Non essere mai disonesto. Never be dishonest. Non essere mai impertinente. Never be naughty. Non essere mai scortese. Never be impolite. Never be impolite. Sì sempre sincero. Always be honest. Always be honest. Sì sempre carino. Always be nice. Always be nice. Sì sempre gentile. Always be polite. Always be polite. Buon ritorno a casa. Hope you arrive home safely. Hope you arrive home safely. Abbia cura di sé. Take care of yourself. Take care of yourself. Ritorni a trovarci presto. Do visit us again soon. Do visit us again soon. Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi. 50 languages. Novantuno. Ninety-one. Ninety-one. Frasi secondarie con che? Uno. Subordinate clauses. That. One. Subordinate clauses. That. One. Forse domani il tempo sarà migliore. Perhaps the weather will get better tomorrow. Perhaps the weather will get better tomorrow. Come fa a saperlo? How do you know that? How do you know that? Spero che migliori. I hope that it gets better. I hope that it gets better. Viene sicuramente. He will definitely come. He will definitely come. È sicuro? Are you sure? Are you sure? So che viene. I know that he'll come. I know that he'll come. Telefona sicuramente. He'll definitely call. He'll definitely call. Veramente? Really? Really? I know that he'll call. I know that he'll call. I know that he'll call. I believe that he'll call. Il vino è certamente invecchiato. The wine is definitely old. The wine is definitely old. Do you know that he'll call? Do you know that for sure? Do you know that for sure? Do you know that for sure? Suppongo che sia invecchiato. I think that it is old. I think that it is old. I think that it is old. The wine is good. Our boss is good looking. Our boss is good looking. Do you think so? Do you think so? Do you think so? The boss definitely has a girlfriend. Lo crede veramente? Do you really think so? Do you really think so? è molto probabile che abbia un'amica. Frasi secondarie con che. Subordinate clauses, that, too. Mi secca che tu russi. I'm angry that you snore. Mi secca che tu beva tanta birra. Mi secca che tu venga così tardi. I'm angry that you come so late. I'm angry that you come so late. Credo che abbia bisogno di un medico. I think he needs a doctor. I think he needs a doctor. Credo che sia malato. I think he is ill. I think he is ill. Credo che adesso dorma. I think he is sleeping now. Speriamo che sposi nostra figlia. Speriamo che abbia molti soldi. Speriamo che sia milionario. Speriamo che sia milionario. Speriamo che sia milionario. Ho sentito che tua moglie ha avuto un incidente. I heard that your wife had an accident. Ho sentito che è all'ospedale. Ho sentito che la tua macchina è completamente distrutta. I heard that your car is completely wrecked. I heard that your car is completely wrecked. Mi fa piacere che sia venuto. I'm happy that you came. Mi fa piacere che abbia interesse. I'm happy that you are interested. I'm happy that you are interested. Mi fa piacere che voglia comprare la casa. I'm happy that you want to buy the house. I'm happy that you want to buy the house. Temo che l'ultimo autobus sia già passato. I'm afraid the last bus has already gone. I'm afraid the last bus has already gone. Temo che dobbiamo prendere un tassi. I'm afraid we will have to take a taxi. Temo di non avere denaro con me. I'm afraid I have no more money. Novantatré Novantatré Ninety-three Ninety-three Frasi secondarie con se Subordinate clauses if Subordinate clauses if Non so se mi ama. I don't know if he loves me. I don't know if he loves me. Non so se ritorna. I don't know if he'll come back. I don't know if he'll come back. Non so se mi telefona. I don't know if he'll call me. I don't know if he'll call me. Chissà se mi ama. Maybe he doesn't love me. Chissà se ritorna. Maybe he won't come back. Maybe he won't come back. Chissà se mi telefona. Maybe he won't call me. Maybe he won't call me. Mi chiedo se mi pensi. I wonder if he thinks about me. I wonder if he thinks about me. Mi chiedo se abbia un'altra. I wonder if he has someone else. I wonder if he has someone else. Mi chiedo se menta. I wonder if he lies. I wonder if he lies. Chissà se mi pensa. Maybe he thinks of me. Maybe he thinks of me. Chissà se ha un'altra. Maybe he has someone else. Maybe he has someone else. Chissà se dice la verità. Maybe he tells me the truth. Maybe he tells me the truth. Dubito che mi voglia veramente bene. I doubt whether he really likes me. I doubt whether he really likes me. Dubito che mi scriva. I doubt whether he'll write to me. I doubt whether he'll write to me. Dubito che mi sposi. I doubt whether he'll marry me. I doubt whether he'll marry me. Chissà se mi ama veramente. Does he really like me? Does he really like me? Chissà se mi scrive. Will he write to me? Will he write to me? Chissà se mi sposa. Will he marry me? Will he marry me? Fifty languages. Novantaquattro. Ninety-four. Ninety-four. Congiunzioni. Uno. Conjunctions. One. Conjunctions. One. Aspetta finché smette di piovere. Wait until the rain stops. Wait until the rain stops. Aspetta finché ho finito. Wait until I'm finished. Wait until I'm finished. Aspetta finché lui torna. Wait until he comes back. Wait until he comes back. Aspetto di avere i capelli asciutti. I'll wait until my hair is dry. I'll wait until my hair is dry. Aspetto che il film sia terminato. I'll wait until the film is over. I'll wait until the film is over. Aspetto che il semaforo sia verde. I'll wait until the traffic light is green. I'll wait until the traffic light is green. Quando vai in vacanza? Where do you go on holiday? When do you go on holiday? Ancora prima delle vacanze estive? Before the summer holidays? Before the summer holidays? Sì, prima che comincino le vacanze estive. Ripara il tetto prima che cominci l'inverno. Repair the roof before the winter begins. Lavati le mani prima di sederti a tavola. Wash your hands before you sit at the table. Wash your hands before you sit at the table. Chiudi la finestra prima di uscire. Close the window before you go out. Close the window before you go out. Quando vieni a casa? When will you come home? When will you come home? Dopo le lezioni? After class? After class? Sì, dopo che le lezioni sono finite. Yes, after the class is over. Yes, after the class is over. Dopo l'incidente non ha più potuto lavorare. Dopo aver perso il lavoro è andato in America. After he had lost his job, he went to America. Dopo esser andato in America è diventato ricco. After he went to America, he became rich. After he went to America, he became rich. Novantacinque. Novantacinque. Ninety-five. Ninety-five. Congiunzioni due. Conjunctions due. Conjunctions due. Da quando non lavora più? Since when is she no longer working? Since when is she no longer working? Da dopo il suo matrimonio? Since her marriage? Since her marriage? Sì, lei non lavora più da quando si è sposata. Yes, she is no longer working since she got married. Yes, she is no longer working since she got married. Since she got married, she's no longer working. Da quando si conoscono, sono felici. Da quando hanno bambini, escono raramente. Since they have had children, they rarely go out. When does she call? Durante il viaggio? When driving? Sì, mentre guida. Yes, when she is driving. Yes, when she is driving. Lei telefona mentre guida. She calls while she drives. Lei guarda la TV mentre stira. She watches TV while she irons. She watches TV while she irons. Lei ascolta la musica mentre fa i compiti. She listens to music while she does her work. She listens to music while she does her work. Non vedo niente se non metto gli occhiali. I can't see anything when I don't have glasses. I can't see anything when I don't have glasses. Non capisco niente se la musica è così forte. I can't understand anything when the music is so loud. Non sento odori quando ho il raffreddore. I can't smell anything when I have a cold. I can't smell anything when I have a cold. Se piove prendiamo un tassì. Se vinciamo all'otto facciamo il giro del mondo. Se non arriva presto, cominciamo a mangiare. 50 Languages Novantasei Ninety-six Ninety-six Congiunzioni Tre Conjunctions Three Conjunctions Three Mi alzo appena suona la sveglia. Mi stanco appena inizio a studiare. I become tired as soon as I have to study. Smetto di lavorare appena faccio sessant'anni. I will stop working as soon as I'm sixty. I will stop working as soon as I am sixty. Quando telefona? Appena ho un momento di tempo. As soon as I have a moment. As soon as I have a moment. Lei telefona appena ha un po' di tempo. He'll call as soon as he has a little time. He'll call as soon as he has a little time. Quanto tempo lavorerà? How long will you work? How long will you work? Lavorerò finché potrò. I'll work as long as I can. I'll work as long as I can. Lavorerò finché sarò sano. I'll work as long as I'm healthy. I'll work as long as I am healthy. Sta a letto invece di lavorare. He lies in bed instead of working. He lies in bed instead of working. Lei legge il giornale invece di cucinare. She reads the newspaper instead of cooking. Lui sta al bar invece di andare a casa. He is at the bar instead of going home. He is at the bar instead of going home. A quanto so, lui abita qui. As far as I know, he lives here. As far as I know, he lives here. A quanto so, sua moglie è malata. As far as I know, his wife is ill. A quanto so, lui è disoccupato. As far as I know, he is unemployed. As far as I know, he is unemployed. Non mi sono svegliato in tempo. Altrimenti sarei stato puntuale. I overslept. Otherwise, I'd have been on time. I overslept. Otherwise, I'd have been on time. Avevo perso l'autobus. Altrimenti sarei stato puntuale. Non trovavo la strada. Altrimenti sarei stato puntuale. I didn't find the way. I got lost. Otherwise, I'd have been on time. I got lost. Otherwise, I'd have been on time. 50 languages. 97 97 97 7 Congiunzioni 4 Conjunctions 4 Conjunctions 4 Si è addormentato sebbene il televisore fosse acceso. He fell asleep although the TV was on. He fell asleep although the TV was on. Lui è rimasto ancora sebbene fosse già tardi. He stayed a while although it was late. He stayed a while although it was late. Non è venuto sebbene noi avessimo un appuntamento. He didn't come although we had made an appointment. He didn't come He didn't come although we had made an appointment. Il televisore era acceso. Tuttavia, si è addormentato. The TV was on. Nevertheless, he fell asleep. The TV was on. Nevertheless, he fell asleep. Era già tardi tuttavia è rimasto ancora. It was already late nevertheless he stayed a while. It was already late nevertheless he stayed a while. Avevamo un appuntamento tuttavia non è venuto. We had made an appointment nevertheless he didn't come. We had made an appointment nevertheless he didn't come. Sebbene non abbia la patente guida la macchina. Although he has no license he drives the car. Although he has no license he drives the car. Sebbene la strada sia gelata lui va forte. Although the road is slippery he drives so fast. Although the road is slippery he drives so fast. sebbene sia ubriaco lui va in bicicletta. Although he is drunk he rides his bicycle. Although he is drunk he rides his bicycle. Non ha la patente tuttavia porta la macchina. Despite having no license he drives the car. Despite having no license he drives the car. La strada è gelata tuttavia va forte. Despite the road being slippery he drives fast. Despite the road being slippery he drives fast. Lui è ubriaco tuttavia va in bicicletta. despite being drunk he rides the bike. Despite being drunk he rides the bike. Sebbene sia laureata non trova un posto. Although she went to college she can't find a job. Although she went to college she can't find a job. Sebbene abbia dolori non va dal medico. Although she is in pain she doesn't go to the doctor. Although she is in pain she doesn't go to the doctor. Sebbene non abbia soldi compra una macchina. Although she has no money she buys a car. Although she has no money she buys a car. È laureata ciò non ostante non trova lavoro. She went to college nevertheless she can't find a job. She went to college nevertheless she can't find a job. Lei ha dolori ciò non ostante non va dal medico. She is in pain nevertheless she doesn't go to the doctor. She is in pain nevertheless she doesn't go to the doctor. Lei non ha soldi ciò non ostante compra una macchina. she has no money nevertheless she buys a car. She has no money nevertheless she buys a car. Fifty languages novant otto ninety eight ninety congiunzioni coordinative double connectors double connectors il viaggio è stato bello ma faticoso the journey was beautiful but too tiring the journey was beautiful but too tiring il treno era in orario ma affollatissimo the train was on time but too full the train was on time but too full l'albergo era accogliente ma troppo caro the hotel was comfortable but too expensive the hotel was comfortable but too expensive lui prende o l'autobus o il treno he'll take either the bus or the train he'll take either the bus or the train lui viene o stasera o domani mattina he'll come either this evening or tomorrow morning he'll come either this evening or tomorrow morning lui abita o da noi o in albergo he's going to stay either with us or in the hotel he's going to stay either with us or in the hotel lei parla sia lo spagnolo che l'inglese she speaks spanish as well as english she speaks spanish as well as english lei ha vissuto sia a madrid che a londra she has lived in madrid as well as in london she has lived in madrid as well as in london lei conosce sia la spagna che l'inghilterra she knows spain as well as england she knows spain as well as england lui non è solo stupido ma anche pigro he is not only stupid but also lazy he is not only stupid but also lazy lei non è solo carina ma anche intelligente she is not only pretty but also intelligent she is not only pretty but also intelligent intelligent lei non parla solo tedesco ma anche francese she speaks not only german but also french she speaks not only german but also french i can neither play the piano nor the guitar non so ballare né il waltzer né la samba i can neither waltz nor do the samba i can neither waltz nor do the samba non mi piace né l'opera né il balletto i like neither opera nor ballet i like neither opera nor ballet quanto più in fretta lavori tanto più presto finisci the faster you work the earlier you will be finished the faster you work the earlier you will be finished quanto prima vieni tanto prima puoi andartene the earlier you come the earlier you can go the earlier you come the earlier you can go quanto più si invecchia tanto più pigri si diventa the older one gets the more complacent one gets the older one gets the more complacent one gets fifty languages novantanove ninety nine ninety nine genitivo genitive genitive la gatta della mia amica my girlfriend's cat my girlfriend's cat il cane del mio amico my boyfriend's dog my boyfriend's dog i giocattoli dei miei bambini my children's toys my children's toys questo è il cappotto del mio collega this is my colleague's overcoat this is my colleague's overcoat questa è la macchina della mia collega that is my colleague's car that is my colleague's car questo è il lavoro dei miei colleghi that is my colleague's work that is my colleague's work il bottone della camicia si è staccato the button from the shirt is gone the button from the shirt is gone la chiave del garage si è persa the garage key is gone the garage key is gone il computer del titolare è guasto the boss's computer is not working chi sono i genitori della ragazza who are the girl's parents come faccio ad arrivare alla casa dei suoi genitori how did i get to her parents house la casa è in fondo alla strada the house is at the end of the road the house is at the end of the road come si chiama la capitale della svizzera qual è il titolo del libro come si chiamano i bambini dei vicini what are the names of the neighbors children what are the names of the neighbors children quando sono le vacanze estive dei bambini when are the children's holidays when are the children's holidays qual è l'orario di ambulatorio del medico what are the doctor's consultation times what are the doctor's consultation times qual è l'orario di apertura del museo what time is the museum open what time is the museum open fifty languages cento one hundred avverbi adverbs già una volta non mai already not yet already not yet è già stato a berlino una volta have you already been to berlin have you already been to berlin no non ci sono mai stato no not yet no not yet qualcuno nessuno someone no one someone no one conosce qualcuno qui do you know someone here do you know someone here no non conosco nessuno no i don't know anyone here no i don't know anyone here ancora non più a little longer not much longer a little longer not much longer resta ancora tanto qui will you stay here a little longer will you stay here a little longer no non ci resto più tanto no i won't stay here much longer no i won't stay here much longer ancora qualcosa più niente something else nothing else something else nothing else vuole bere ancora qualcosa would you like to drink something else would you like to drink something else no non voglio più niente no i don't want anything else no i don't want anything else già qualcosa ancora niente something already nothing yet something already nothing yet ha mangiato già qualcosa have you already eaten something have you already eaten something no non ho mangiato ancora niente no i haven't eaten anything yet no i haven't eaten anything yet ancora qualcuno nessuno someone else no one else someone else no one else qualcuno vuole ancora un caffè does anyone else want a coffee does anyone else want a coffee no nessuno no no one else no no one else visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi to no 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 Grazie.